Con pochissime parole, anche perché aspettiamo di caricare il filmato di Cotò, che non verrà di persona ma che sarà connesso di un filmato, perché stiamo lavorando esattamente a voi. E io, niente, ripeto quello che stavo detto stamattina, in quanto essendo vicepresidente di questa accademia, siamo contentissimi di questo evento, siamo contenti di come è stato iniziato, di come si è sviluppato anche in accordo con l'altro evento, parlo dell'Eloin della Sapienza, che ci ha sembrato, o giusto, riuscire a portare un porto o due eventi importanti per una persona, che vi devo di nuovo aggiungere cose personali, non se ne aggiungo qualche cosa, distrettamente personalmente diversa, che certamente però ha segnato, è uno dei punti di una generazione, chiamiamolo così, di un gruppo di persone, romani, di una mente finanziaria di me, in un momento tra i giovani, quelli che assistevano, Renato cercava tre anni, due anni e mezzo di me, però è stato un riferimento, per esempio nel prossimo intervento di Ninema in Cina, in cui si parlerà degli anni Sessanta a Roma, ecco, Renato è una figura di studente, l'Iter, che ho incontrato il giorno dopo essere mischi, che ho 17 anni in una facoltà di architettura di Roma, era un riferimento assoluto, era vero che io in qualche modo sapevo chi era, perché la mamma sua e la madre di mia madre si conoscevano, perché abitava a due cassini a casa mia, che aveva anche questi motivi, perché lui riconosceva a me, in quanto il figlio della sua professoressa di arte, quindi diceva che aveva queste estreme cose, per cui era un po', però non è una questione familiare, è una questione di generazioni, quella è una generazione che secondo me esprimeva tantissimo in termini di politica, di cultura, di fantasia e di capacità di ricerca, che però in fondo è stata veramente trascurata, anzi, secondo me tragicamente trascurata, e in realtà è una delle loro persone, sia come di gruppi, rimanga nella memoria anche collettiva, per quanto l'azione politica di fantasia, ma in realtà c'è stata un'unica, è stata un'unica, è stata un'unica che la partizia, ed è benissimo invece di scoprire, di ragionare, perché insieme a lui la cultura romana, non so perché, è riuscita a raccontare molto all'epoca e a raccontarsi dopo, molto meno. Per esempio Renato, tra cui anni fa promosse, con una vista rassegna, un numero molto complesso delle attività architettoniche, perché poi tutti noi che abitavamo intorno al mondo dell'architettura, con connessi e annessi, le agro comprese, c'erano soprattutto intorno all'architettura, e c'era un grandissimo perbore, una grandissima posizione critica, non so come dire. Quello fu un nobile tentativo per ritornare a Cine, insomma, è scoperto, la cantetta è scoperto. Sono anche curiosità, devo dire, non per presentare quello che ho avuto a parlare. L'intervento in arriva in Italia, mi interessa curiosamente, veramente tanto, perché la, come dire, la OEVA generazione milanese ha avuto fenomeni analoghi, ma molto più di successo. Cioè, in qualche modo, 50 anni dopo, di più, 60 anni, 55 anni dopo, la emizione la vedi come un episodio che ce lo ricordiamo in pochi. Renato, se lo ricordi in molti, per altro, per la strada umana, per altre cose, ma non per le grandissime, un rappresentante di quel mondo, un rappresentante brillantissimo, leader, uno dei leader, della tendenza milanese che si è presa non con tutti di più. Questa è una cosa che mi è sempre un po' distiaciuta, lo dico da architetto, tutto qua. Poi c'ho pochissime cose, una, se mi aiutasse il nostro tecnico, vorrei farvi vedere due cose di San Luque, non c'entrano nulla, mi aiuti per fuori. Sono, in realtà, sempre parlando di famiglia. In San Luque ci sono tante questioni attinenti alla famiglia di quelli. Il nonno era un famoso, interessante, brillantissimo, scoperto. E invece abbiamo anche un bellissimo leader, che vi farò vedere i vicini, che lo ricordano. Ma solo perché è una cosa ancora più personale, più diretta, con cui si arriva al papà al chiedetto, a dire, che è rappresentato in dono, e credo che sia stato dato a noi nel 13, nel 36, non so adesso qui, di un gesso. Secondo me è delizioso, che non è questo, successo. E questo gesso qui, con tre figure di bambini, appogliati, che escono dalla massa al gesso, che fascino si sa. Quello bambino, con le bambini, con le bambine, così, piccoli e più piccoli di tutti, è, che va appunto e fanno il trinato, l'architore. E mi sembra veramente una cosa, noi la teniamo, è stata ristorata da poco, lo dico per chiedervi, non è esposto, lo teniamo abbastanza con cura, ed è uno degli oggetti più carini, della memoria, ed è uno degli scrittori, questo. E poi questo è, come ho detto, il padre, il nonno, in un retrato bellissimo, dove c'è, chiudo qui, non voglio fare altro che questo, per dirvi che in San Luca c'è, c'è una graccia importante della memoria di, della famiglia, lo devo, la sorella, se no, io chiuderei qui, volevo solo dirvi che, non si è parlato di Renato, forse, ah, di Renato d'architetto, perché non ho fatto tanto, ma in certi momenti lo è stato, anche vicacemente. E, come ricordo personale, l'unica cosa che mi viene da dire, ma veramente bellissima, è che Renato, poco prima di morire, è stato uno degli oggetti del progetto che mi viene da questo imprenditore, che stiamo facendo adesso. Eravamo da nanti, ma lui certamente è uno di quelli più attivi del progetto. E devo dire che aveva, come al solito, un'idea, come tutte le cose di Renato, abbastanza teologossa, e assolutamente contraddittoria rispetto agli specchi reali, concreti del mondo. Perché? Perché è ovvio che il qualsiasi gruppo che partecipasse a quella cosa in cui si mette in ballo un'archeologia per quanto discutibile da molti montisti, ma comunque leggendaria, il Verdem era salvaguardato, ma in tutti i modi preservarla. Sia lui, che era il leader, diciamo, politico del gruppo, sia il leader culturale, Mario e Mario di Criano, nel gruppo di un elemento essenziale che lei fosse metterci le mani sopra. E soprattutto, sopra i dati, ma sopra i dati, ma sopra i dati. Il volume, il volgetto, il tema, il tema non è il primo di senso, perché l'agosteo era un oggetto anticamente, l'agosteo lo fa, è un oggetto che si vettava sulla campagna, non c'era nulla intorno, era un mammozzone immenso. Poi il secondo mammozzone è quindi Adriano, però Adriano è rimasto il castello con la sua forza, e quello è il mio primo anno, si è il miserito, rimangendo gli edifici vicini, un demonito, raschiato, un cresciuto dalla città sotto, solo c'è tutto, per cui si è venuto. Però poi, nell'Ottocento, il ritornava a essere alto, c'era stata costruita un grande gruppo, in realtà, l'auditore, in un spettacolo, invece adesso, di fatto, è un gruppo, seppellito dalle alte case di furbo intorno. E allora, come erano, in maniera di cui erano costruirci fuori, alzare il pallone, ho dovuto poterci uno, e alla fine, quello che erano, era quasi riuscire a convincere tutti di fare una costruzione semplicemente virtuale di laser, per cui da un muro partì una specie di colonna luminosa che arrivava altissima fino a scena. Io sono un cinismo, per me, mi sono convinti che era il caso sassidentale di vincere di essere lì, di abbandonare queste proposte e ci sono riuscito, mi sono sempre un po' pentito. Poi lui, in realtà, partecipato moltissimo a tutte le scelte minubile, per cui il generale era una diretta, con una visione della realtà, in qualche modo, davvero coraggiosa, perché poi, in realtà, lui stava nella questione vera, cioè la sostanza, quella di occludere in cui noi se ci diamo un felicismo formoso, perché occludere è ridotto veramente a poco, è difficilissimo coglierne quello, non mi entrare in una questione. Quindi noi vogliamo una questione di significato, ruolo, di un indicio storico nella memoria dei cittadini, nella presenza ottica dei cittadini, non di felicismo astatto, perché quello è l'articolo, tra piccolate, quindi da preservare. Quindi questa dimensione, secondo me, è coraggiosa e realistica e, in fondo, umanistica è tipica del generale. Anche, se volete, nella polemica, che oggi ho capito, ne parlavano in qualche paese, che avevano, in qualche modo, dei frutti di dolci. E non è tutti dolci, cioè che alcuni esperti eccessivamente così continuano, compiacenti, umanisteggianti eccessivamente un po', della retorica del realismo ritolfiano. Alla fine sono stucchevoli e Renato, in qualche modo, reagiva in quanto si fece quel lavoro su di dolci, reagiva in modo potretto. Quindi riconosco, io che riconosci di questo. Renato era uno di nomi architetto. Poi ha fatto tantissime altre cose, non ha praticato, diciamo, un aspetto professionale, quasi per nulla. Però si vedeva che architetto quando si è laureato, quando ha lavorato e tornava a laurea, quando sono uscite le loro tesi. Quelle tesi, in quegli anni, erano coloratori, esattamente quanto dovevano essere, erano interessanti, moltissimi. Ed è simile ad essere architetto in realtà. nello spirito e nella basis, è un altro ultimo atto, è quasi l'ultimo atto attivo di Renato, prima di... tutto qua. e vi ringrazio molto, vi ringrazio a tutti, il tennis, vi ringrazio al nome della Teresa Luca di avere condotto questa cosa. Mi auguro che tutti gli temati che sono stati benissimo, come dire, articolati nella sicurezza della laurea, si svolgono, chiarendo riduzioni che ci aspettiamo tutti. Grazie. Allora, una piccola aggiunta di Francesco Cerdini, quando lui mette in evidenza la differenza un po' tra i gruppi di architetti di Roma e i gruppi di architetti di Milano, nella passi, nel posizionarsi nei confronti dell'architettura. Io penso che possa essere citato in maniera significativa un articolo che firmamo in 5, 6 o 7, con Renato Nicolini, che segnava un po' l'individualismo di tutti noi architetti romani, che è un gruppo contro la dettaglia del gruppo. Cioè, metto in Milano, poi in ogni occasione, pur nella diversità, si sono poi sempre riconosciuti a Roma, pur nella uggenità ci siamo sempre, come dire, voluti distinguere. Poi, per quanto riguarda il problema di Renato nel rapporto con la presentazione, chiaramente questo rapporto continuo negli anni della formazione, prosegue con i primi anni, quando è, come dire, quando diventa assessore, partecipando alcuni concorsi, alcuni anche qualche progetto professionale. E poi, diciamo, credo che i due episodi più rilevanti, in un certo senso, possono essere il concorso delle altre che ha fatto con Franco, che presero anche una segnalazione, e, indubbiamente, questo ultimo che ha fatto con Francesco Cellini. E quindi, non è vero che non aveva interessato, ha ragione Francesco Cellini, quando dice che non è vero che non aveva interessato la progettazione, ma certamente non aveva problemi di avere un linguaggio proprio, proprio, ne è dimostrato dal fatto che poi decide di collaborare in un concorso con Franco, e con un concorso con Francesco, che sono due modi e due linguaggi completamente diversi. Allora, andiamo avanti. Oggi, nel comincio all'intervento, ci sarebbe Dina Nincini, Pasquale Portore e Oscar Amaro, che invito a venire qui. Dina Nincini ha il compito di parlare un po' degli studi mediaveri della Fattoria Perfettura negli anni della loro formazione. Ah, bisogna tristare, però che c'è la cellulina. Allora, la sessione con l'ordine non è potuto più bene, però avranno fatto registrare un suo saluto. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Mi spiace non poter essere in presenza con voi, ma mi fa piacere inviarvi un saluto da parte del Sindaco Roberto Gualtieri e mio personale in occasione di questa giornata di studio organizzata dall'Accademia di San Luca, con cui si chiude una due giorni di celebrazioni dedicata a Renato Nicolini. Ieri la Facoltà di Architettura della Sapienza ha organizzato una giornata in ricordo di Nicolini, con interventi e un documentario a cura del preside, professor Carpensano. Mentre nel pomeriggio la pioggia purtroppo non ci ha consentito di inaugurare il giardino di Renato Nicolini, proprio di fronte alla facoltà dove gli è stato studente, poi professore, è una cosa però cui la nostra amministrazione tiene molto e che verrà riprogrammata appena possibile. Scorrendo il programma della giornata odierna, che vede impegnate personalità di altissimo profilo accademico e intellettuale, le cui vite per motivi diversi si sono intrecciate con quelle di Nicolini, sono certo che questa giornata si rivelerà un'occasione di confronto preziosa per ricostruirne la figura a poco più di dieci anni dalla sua morte. Per questo saluto e ringrazio Marco Tirelli, il presidente dell'Accademia di San Luca, Claudio Strinati, segretario generale dell'Accademia e la professoressa Laura Termes, che ha coordinato il programma, oltre al professor Carpenzano e tutti i partecipanti. Come assessore alla cultura mi confronto direi quasi quotidianamente con le esperienze e la figura di Nicolini, soprattutto in due ambiti che vorrei qui ricordare per riassumere l'importanza del suo ruolo amministrativo e politico, ma direi anche culturale e civile. Il primo è l'Estate romana. L'Estate romana fu ideata nel 1977 da Nicolini, che dall'anno precedente era divenuto assessore alla cultura di Roma nella giunta Argan, la prima giunta a guida comunista, e che avrebbe mantenuto questo importante ruolo lasciandogli una impronta decisiva e duratura fino al 1985. Ecco, l'Estate romana è stata un'invenzione di Nicolini che ha trasformato quell'esperienza di incontro di alto e di basso, di cultura colta e di cultura popolare, di fusione trasversale tra centro e periferia, in un modello che poi è valso per l'intera Italia, e un modello di cultura amministrativa in ambito estivo, appunto, di organizzazione estiva valevole a livello europeo. Un mix sapientemente dosato che è riuscito in modo originale anche audace e che fu criticato al tempo, ecco, non dimentichiamolo questo, a gettare un ponte tra immaginari sconosciuti, portando metaforicamente la periferia al centro e il centro in periferia. Sì, perché Nicolini, che agiva in una temperie politica difficile e conflittuale, caratterizzata da tanta violenza politica, dalla tragica esperienza della lotta armata, attraverso l'estate romana consentì a migliaia e migliaia di romani di rincontrarsi, di riapproparsi dello spazio pubblico, delle piazze, delle strade e delle vie della nostra città in modo pacifico, utilizzando la cultura come veicolo di pacificazione e di scambio e di crescita. Ma ripeto, ci furono le critiche, la critica alla cultura dell'effimero. Il fatto cioè che tanti soldi pubblici, queste iniziative erano gratuite in grande parte, venissero spese, ma che appunto durassero il tempo di una serata o di un'estate. Ecco, i fatti hanno dimostrato e smentito queste Cassandre, perché se c'è una cosa duratura del modello Nicolini è proprio il brand dell'estate romana, oggi noto e conosciuto in tutta Europa. C'è però un secondo aspetto che voglio ricordare nel celebrare oggi dei fronti a voi Nicolini. L'iniziativa, il grande impulso che gli diede al sistema bibliotecario comunale. Un sistema che oggi è tra i più importanti a livello europeo, consta di 40 strutture e che gli ha avuto la capacità di pensare distribuito in modo democratico sull'intero territorio comunale e favorendo l'accesso di una vera e propria generazione di operatori culturali, bibliotecari che hanno lasciato una grande impronta amministrativa e civile a Roma. Ora lo dico veramente con umiltà e a voce bassa, ma se ci sono due cose con cui la nostra amministrazione sta cercando di tenere alto il ricordo, l'impegno amministrativo di Nicolini è proprio da un lato nel rilancio dell'estate romana, cose che abbiamo fatto l'anno scorso e che ripeteremo quest'anno, dopo un periodo di appannamento. L'amministrazione precedente aveva addirittura cambiato il nome, non ritenendolo più evidentemente funzionale e poi la seconda cosa è proprio un investimento di 50 milioni di euro del PNRR sulle biblioteche. Sono fatti concreti, ne costruiremo 10 nuove e ne riammoderneremo una ventina che avvengono nel segno del ricordo di Nicolini e ci sembra questo in modo migliore per rendere omaggio a un grande amministratore, a un grande politico, a un grande professore, ma a un intellettuale che ha lasciato il segno. Grazie e buon lavoro. Sperare, Godorre è stato presente ieri alle iniziative fatte presso la Facoltà di Architettura di Roma, ha mandato questo messaggio. Roma, come abbiamo detto, il Comune di Roma dedicherà prossimamente, non è stato possibile farlo ieri per la pioggia, il giardino davanti alla Facoltà e quindi speriamo che sia buon segno. Forse dovremmo analizzare dopo questo convegno le differenze, se ci sono, o le analogie fra l'estate romana messa in atto da questa nuova amministrazione e invece la versione nicoliniana. Allora invito di nuovo a prendere posto qui al tavolo Dina Nincini, Pasquale Belfiore e Ottavio Amaro. Io stavo anticipando che Dina Nincini cercherà di restituire quella condizione di cui vi ho già accennato, della formazione che è avvenuta, la formazione degli architetti che si sono iscritti nella Facoltà di Architettura agli inizi degli anni Sessanta, negli studi. Cioè era una struttura quasi parallela, anche a volte una controscuola per le sue contrapposizioni, diciamo, nei confronti dei professori migliori, perché rispetto ai quali ci volevamo porre come figure alternative e che è stata altamente importante per tutti quanti noi, sia che ci identificassimo in certe posizioni, sia in altre. Dina in questo senso lavorò su questo tema ai tempi del numero monografico citato anche da Francesco Cillini, dell'assegna di architettura urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Roma, che era appunto il cui titolo era la formazione degli architetti romani negli anni Sessanta. E la cosa che forse può interessare i colleghi milanesi che sono qui presenti, questo numero, quando qualche collega di Milano ne è venuto a conoscenza, ha suscitato sempre un grande interesse. E ultimamente, negli ultimi due o tre anni, Ernesto D'Alfonso ha deciso di riprenderlo chiedendo quasi un aggiornamento. Per esempio agli architetti e ai professori, che adesso hanno 40 anni così, è stato chiesto di interrogarsi su quegli studi. Quindi sullo studio a Castro Fraticelli Nicolini, sullo studio nostro, sullo studio del Grau, eccetera. In quanto indubbiamente fu un fenomeno molto interessante e con risultati molto importanti, ecco, anche se poi forse si sono dispersi. Addina Nincini, è il primo intervento. Grazie. Allora, grazie di questo coinvolgimento all'Accademia Nazionale di San Luca e naturalmente alla professoressa Laura Termes, che ha ideato e organizzato questa giornata. Lei appunto richiamava questo numero monografico della rassegna di architettura urbanistica, che pubblicò gli atti della giornata di studi organizzata nel 2002 da Franco Purini presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia. E mi fa piacere ricordare, diciamo, un momento in cui, in una discussione con Claudio D'Amato, a cui io anche con un notevole grado di ingenuità chiedevo alcune delucidazioni, lui mi rispose, attenzione perché stai parlando di corda a casa di impiccato. Io un po' oggi, diciamo, mi sento di nuovo un po' in questa condizione perché, nonostante sia passato un po' di tempo, io abbia continuato, diciamo, a lavorare, anche se non in maniera continuativa su questo momento così centrale per la cultura architettonica romana, mi rendo conto che i contributi fino ad ora presentati godono dell'autenticità dell'esperienza diretta, dell'esperienza diretta della conoscenza e della partecipazione, diciamo, a quegli eventi così, appunto, fondamentali. Io cercherò, diciamo, di tracciare per sommi capi alcune e di rintracciare, diciamo, alcune questioni che credo possano essere rilevanti, anche cogliendo un po' la sollecitazione che veniva adesso da Francesco Cellini in relazione, diciamo, alle specificità che questo momento rappresenta nella cultura architettonica romana. Vanno fatte, diciamo, alcune precisazioni, spero, diciamo, non le sentiate, diciamo, un po' che non sembrino eccessive puntualizzazioni, però va sottolineato che di questo periodo sulla cultura architettonica romana c'è molto poco. Il numero, appunto, curato da Franco Purini della rassegna è diventato, diciamo, il testo di riferimento per la conoscenza di quegli anni. Ci fu nell'85, naturalmente, il libro I nuovi architetti italiani di Paolo Portoghesi, che diede spazio a molti dei giovani degli anni Sessanta. C'è un bellissimo libro curato da Purini, Barucci, Rossi e Soggia, che si chiama Ritorno a Roma, città didattica e vita quotidiana sulla formazione, ma non solo, diciamo, sulla partecipazione e la vita in quegli anni e un po' dopo nella città. Ci sono due articoli usciti sul controspazio, uno di Nicolini che si chiama proprio Gli anni della formazione, un altro di Giorgio Ciucci su La Casa Bella, il numero monografico dedicato a Manfredo Tafuri. E poi c'è un saggio anche molto interessante di Claudio D'Amato sulla rivista online Fan Magazine. Sicuramente, diciamo, il tempo relativamente ridotto, diciamo, una ridotta distanza storica ha impedito, diciamo, di fare un lavoro sistematico su questo periodo, ma anche, lo accennava poco fa Francesco Cellini, anche la sterminata produzione che almeno 50 studi di giovani studenti che si riunivano e che andavano nel numero dai 3 ai 15 componenti, quindi circa quasi, diciamo, 250 giovani neolaureati, non ancora laureati o laureati un po' più maturi, producono, diciamo, una quantità veramente che rimane, diciamo, in una dimensione ancora tutta da analizzare e da studiare. Purini dà un intervallo cronologico, il 58 e il 73, che coincide esattamente con la nascita del primo studio, il 58, in realtà non proprio uno studio, ma un'associazione di giovani architetti, giovani studenti, l'ASEA, che poi confluirà nell'AUA, uno, diciamo, degli studi più numerosi e quindi, diciamo, nella quale partecipano i nomi più rilevanti, diciamo, di questo grande iceberg che costituiscono gli studi nel loro insieme. E il 73 come l'anno di impatto contro, diciamo, le grandi aspettative del progresso e dell'innovazione della crisi energetica mondiale. All'interno, diciamo, di questo intervallo breve però accadono moltissime cose e queste moltissime cose, moltissime attività, moltissimi eventi che, appunto, qui non riesco, diciamo, a presentare in maniera estesa, possono essere distinti però in due sottointervalli che sono, diciamo, molto, molto, che è molto importante sottolineare. Cioè un intervallo che è segnato, diciamo, dal 1963, la prima occupazione della facoltà e un secondo intervallo segnato dal 1968, la seconda occupazione. In realtà, diciamo, in un arco così breve di tempo, cinque anni, l'attività, questo grande, diciamo, fermento giovanile, assume tratti e connotati veramente molto diversi, molto distanti. Io ripercorro un po' le tappe attraverso, diciamo, l'intervento che fece Renato Nicolini quel giorno, quel giorno di dicembre a Valle Giulia, nel 2002, in cui interviene quasi subito e inizia, diciamo, a raccontare attraverso la propria esperienza il suo ingresso nella facoltà e il primo, diciamo, la sua prima attività all'interno dei gruppi della rappresentanza studentesca di facoltà ma anche di Ateneo e immediatamente, diciamo, pone la questione a cui accennava la professoressa Termes poco fa della controscuola. La chiama proprio così, molti altri in questa giornata utilizzeranno, diciamo, un'intonazione leggermente più stemperata, dicendo la formazione alternativa. Invece Renato Nicolini usa proprio questo termine, la controscuola. E questa controscuola è costituita nella sua configurazione proprio, diciamo, da questi circa 50 studi, la cui attività è naturalmente variegata, ma che hanno una caratterizzazione molto particolare. Gli studi sono a continua geometria variabile e sono, diciamo, delle entità metamorfiche. Molti passano da uno studio a un altro, ci sono continue contaminazioni. Gli studi tra di loro interagiscono e l'occupazione, diciamo, dello spazio nella città è molto, molto intenso e numeroso. Stanno tutti nel centro storico. Il centro storico era stato abbandonato dalla maggior parte, diciamo, degli abitanti liberando quegli appartamenti che avevano caratteristiche anche dimensionali, tali per cui le stanze venivano, ogni stanza veniva occupata da un gruppo e si crea, diciamo, questa sorta di inversione che rende lo spazio della città, lo spazio del centro storico, paradossalmente proprio, diciamo, il luogo dove si manifesta questa avanguardia. Perché di fatto, diciamo, questo raggruppamento esteso si configura proprio come una vera e propria avanguardia, ha le caratteristiche dell'avanguardia, pone, si oppone al passato in una maniera che poi, diciamo, cercherò anche qui di precisare rapidamente, costituisce un proprio nuovo statuto espressivo, assume la realtà e dell'attualità come problema imprescindibile. Cosa sentivano, diciamo, questi giovani studenti? Sentivano inadeguato il metodo didattico, sentivano che quello che avveniva all'interno della scuola aveva assunto dei caratteri di separatezza eccessiva, ma soprattutto, diciamo, chi insegnava in quel momento proveniva da una generazione che era sentita come radicalmente distante. Questo sentimento si manifesta in maniera tragica, direi, dirompente nel 62, anzi, in realtà, diciamo, con un'anticipazione nel 60, quando appunto un gruppo di giovani, il collettivo studentesco, organizza una mostra dove vengono presentati i lavori degli studenti di un corso, il corso di Saverio Muratori. Saverio Muratori, qui, diciamo, come immaginate, ci sarebbe, diciamo, da aprire una parentesi molto ampia, ma Saverio Muratori costituisce, diciamo, l'antagonista, la figura contro cui, adesso appunto, forse sarebbe un po' eccessivo, diciamo, approfondire, la figura contro cui questi giovani si scagliano e si scagliano letteralmente, basta leggere, diciamo, l'editoriale che pubblica Bruno Zevi sull'architettura, cronaca e storia, per un editoriale in cui un'intervista raccolta, diciamo, nel momento della mostra, della presentazione della mostra, riporta estratti di interventi, appunto, fatti contro l'operato di Saverio Muratori. Quello del 60 sfocerà poi nel convegno del Roxy, nello scontro, diciamo, del convegno del Roxy, in cui, diciamo, in conseguenza, fino ad arrivare addirittura, diciamo, a una presa di posizione del Consiglio di Facoltà, in conseguenza di una lettera che Saverio Muratori fa scrivere sul Giornale d'Italia, dove, in qualche modo, segnala questa drammatica situazione di opposizione all'interno della Facoltà. Ma io credo, diciamo, che questi fatti, in questo momento, forse, diciamo, per la mia distanza, possono essere letti come con quel binomio che vi è riquilici, di aggettivi che vi è riquilici assegna ai giovani studenti che hanno, diciamo, un misto di ingenuità e consapevolezza. In questa, diciamo, ingenuità c'è la volontà, appunto, di riaffermare una propria nuova posizione, una propria nuova visione, nella consapevolezza c'è sicuramente, diciamo, la partecipazione intensa e attiva alla vita della scuola, alla vita della realtà. Accade, diciamo, nel frattempo, sempre, diciamo, ripercorrendo le tappe del del discorso di Nicolini. Cosa evidenzia? Nicolini evidenzia che a questa, diciamo, a questa dimensione più eminentemente contrastante si affianca un lavoro minuzioso, direi, che avviene, che viene fatto minuzioso, ma irruente, che viene fatto negli studi, di coinvolgimento di figure che fanno le lezioni addirittura proprio negli studi stessi. Vengono, diciamo, organizzati veri e propri momenti di discussione sulle tematiche. A un certo punto uscirà, escono alcuni numeri di una rivista che si chiama Finalità dell'architettura, prodotta dai goliardi autonomi e una, è un numero, è dedicato a un dialogo molto intenso, molto acceso sulle tematiche scottanti del momento proprio di questi giovani. Questo dialogo su cosa si attesta? Da un lato, diciamo, come dire, il movimento studentesco comincia ad andare sullo sfondo e iniziano, diciamo, a emergere invece con più precisione e più chiarezza le questioni fondamentali che possono essere distinte in due polarità all'interno delle quali gli studi in maniera differente si riconoscono e si identificano. Da un lato, diciamo, ci sono i grandi temi del town design che l'arrivo nel 62 di Luigi Piccinato, Ludovico Muratori, Adalberto Libera e Bruno Zevi le tematiche, diciamo, della città-territorio, le tematiche del town design vengono assunte e della grande dimensione vengono assunte come problema morfologico di definizione e di rapporto tra l'architettura e l'urbanistica e dall'altra c'è la questione posta invece del rapporto con la storia e della necessità, diciamo, di, secondo l'indirizzo dato da Bruno Zevi, di rivedere, diciamo, gli statuti appunto dei riferimenti storici non più come un materiale cronologicamente connotato ma come un materiale a cui attingere e continuamente attualizzare attraverso i procedimenti progettuali. Queste due polarità sono, diciamo, tenute insieme dal problema del linguaggio e, come dicevo, questi anni della formazione per tutti questi architetti nella raccolta, diciamo, di testimonianze che sono, diciamo, il documento orale più rilevante nello studio di questo periodo, il problema, diciamo, fondamentale è quello che si, che confluisce, diciamo, nella ridefinizione di un linguaggio, di una nuova espressività a partire da un lato, diciamo, dalle istanze del movimento moderno ma poi successivamente anche dalla messa in crisi e dalla critica al movimento moderno stesso. Roberto Perris nel suo intervento evidenzia in maniera molto precisa e dettagliata come queste discussioni e queste tematiche configurino di fatto la nascita di una vera e propria teoria e questa teoria ovviamente poi sistematizzata e riorganizzata, diciamo, dai singoli è comunque esito anche, diciamo, nelle espressioni io credo più singolari di questo lavoro collettivo che fu fatto delle discussioni e ne sono, diciamo, esempio, indubbiamente i manifesti degli studi. Ogni studio o molti studi presentarono delle istanze assolutamente affermative proprio a confermare questa dimensione diciamo avanguardista e militante presentarono dei manifesti dei veri e propri manifesti alcuni, diciamo, ne cito solo alcuni motivi di fondo dello studio Atro Testaccio nel quale, diciamo, il problema della dimensione tecnologica ovviamente non intesa come intendiamo la tecnologia oggi ma come problema diciamo di legare la trasformazione e l'innovazione che stava avvenendo a una dimensione ovviamente altrettanto intensa altrettanto accelerata di evoluzione espressiva o astrazione programmata di Grau nella quale appunto tutta la dimensione diciamo della espressività rientra all'interno dello studio della riflessione sul principio geometrico generativo Nicolini dirà che sostanzialmente lui aderisce maggiormente alle idee di Grau e che quelle per lui rappresentano una risposta più diretta a quelle che sentiva essere le problematiche per lui urgenti ritiene infatti che le questioni sposte da Ludovico Cuaroni attraverso diciamo il tema della della città territorio ma poi successivamente diciamo della grande dimensione e del town design riproponendo diciamo i temi del town design non non fossero per lui così importanti e rilevanti e forse diciamo nel film che abbiamo visto adesso prima dell'inizio qualche cosa diciamo conferma quanto sto dicendo mi avvio a concludere anche se le cose che ci sarebbero da dire sono moltissime ho solo accennato a pochissimi dei protagonisti che furono veramente tantissimi e i cui contributi spero diciamo di poter affrontare in maniera più approfondita negli atti del convegno vorrei chiudere diciamo con una una citazione di Nicolini a proposito diciamo del del 62 non va dimenticato che Nicolini con Anselmi sono inviati da lui a ad ascoltare il discorso di Fidel Castro a Cuba e prima Franco Purini citava la fotografia che li ritrae insieme Nicolini dice che quando arrivano Luigi Piccinato Bruno Zevi cito testualmente Ludovico Cuaroni definiti allora comunemente i docenti democratici io da segretario del consiglio studentesco di facoltà non sono affatto contento e soddisfatto questo stato d'animo è anche evidente nel mio intervento pronunciato a nome degli studenti prodotto da una serie di riunioni nello studio poi di Via Nicotera studio che condividerà tra gli altri con Laura Termes Franco Purini ma anche con Maria Caredini e altri adesso diciamo sarebbe lungo elencarli due 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 questioni sicuramente quelle della formazione eterodossa cioè i libri fondamentali non interni al disciplinare Galvano della Volpe citato da tutti la critica del gusto e gruppo 73 ma tutti gli artisti di Piazza del Popolo Alfabeta Marca 3 la galleria di Agnese De Donato eccetera eccetera ci sono moltissime moltissime Pino Pascali Gastone Novelli Achille Perilli moltissime moltissime influenze diciamo esterne al mondo accademico e chiudo anche se avrei tantissime altre cose da dire insomma ripeto diciamo questo momento è veramente furioso per la riduzione degli anni in cui si produce insomma pensate al 58 al 73 questo intervallo ma anche diciamo per la quantità di riflessioni e di idee che aveva una vera e propria fucina intellettuale ma anche disegnata eccetera eccetera però vorrei concludere con una domanda che è una domanda diciamo che mi sono posta immergendomi nuovamente diciamo nelle letture di questo di questi contributi e cercando diciamo un po' di tirare un bandolo di una matassa di un momento che naturalmente diciamo non ha nessuna vocazione nostalgica ma diciamo deve essere diventare proattivo e utile io credo diciamo che questa generazione però diciamo è una come dire lo faccio in punta di piedi questa affermazione la faccio in punta di piedi questa affermazione questa questa generazione questo gruppo questo questa pluralità così che ha realizzato veramente diciamo la formulazione della cultura collettiva questo diciamo un altro aspetto importante secondo me viveva un conflitto e un problema cioè la domanda era come può convivere l'impeto e l'aspirazione alla libertà connaturata all'arte cioè l'essenza intimamente anarchica che lei è propria con la volontà di potenza e l'affermazione di una generazione che voleva diciamo sostituire quella preesistente perché questo diciamo e come può quella generazione dominare governare le spinte innovatrici del progresso in cui proprio diciamo all'interno di questa dimensione artistica come può dominare le spinte innovatrici del progresso in cui ha così rilevanza la dimensione politica economica io credo che il problema sia ancora questo anche per noi l'intervento di Dina Nencini che si conclude con una domanda speriamo che in sede degli atti ciascuno di noi sia in grado di dare una risposta integra perfettamente secondo me e completa l'intervento di stamattina di Climentina Parucci sulle tematiche architettoniche urbanistiche di quegli anni con Pasquale Belfiore facciamo un salto di alcuni anni che sono stati che hanno che hanno visto impegnato Renato prima in un inizio di carriera accademica laureato nel 69 prende una borsa di studio nel 71 poi partecipa come alle borse di addestramento didattico e scientifico il percorso lo conosco bene perché l'abbiamo vissuto quasi sempre negli stessi anni eccetera e diventa poi ricercatore nel 1981 quando era già assessore quindi in realtà come dire lo vede mentre fino a quell'anno lì era molto impegnato sia anche come la politica nella sezione Campo Marce lo vedeva già in interventi molti politici con la situazione dell'assessorato viene molto impegnato a Roma è stata romana e altre attività di cui ci ha reso conto anche l'assessore Codoro e poi finita quando ancora non è finito l'assessorato diventa deputato alla nona decima e undicesima legislatura che quindi lo impegna moltissimo ci sono riportati nei suoi testi negli appunti nella sua bibliografia ma anche negli atti che sono conservati al Parlamento ha fatto una serie di interventi ironici ma molto seri e divertenti da un lato però insomma molto impegnativi Renato ha avuto emerso già da queste riunioni una vita non facile nonostante il successo in politica perché non tutti all'interno del PC condividevano le sue scelte e quando poi lui compie l'atto di rottura di volersi candidare nonostante il partito non lo portasse nel 93 è chiaro che poi viene in qualche modo credo si possa dire emarginato emarginato però si salva perché lo chiamano assessorato all'identità a Napoli e in questo senso Pasquale Belfiore che è stato architetto professore della facoltà di Napoli ma anche occupato non negli stessi anni di Renato un ruolo politico di assessore spero che ci possa raccontare qualche cosa di quegli anni Renato nei suoi testi nei suoi libri racconta le difficoltà che ha avuto racconta le difficoltà che ha avuto per l'estate romana quando si leggono i libri sull'estate romana ma anche quando scrive per amare Napoli e Napoli Angelica Babele però credo che chi stava accanto e viveva quei giorni ci potrà dare una testimonianza sicuramente più completa sì grazie io spengo perché sì grazie due libri di Angelica Perfidia anche se il primo si chiama Angelica Babele ma le persone angeliche come Nicolini sono capaci anche di grande perfidia ed aveva ragione ad esplicare questa queste gocce di veleno perché la sua esperienza napoletana che leggerò in tre velocissime paginette certamente non credo che sia stata per Nicolini risarcitrice allo stesso modo di come lo è stata l'esperienza precedente qui a Roma lui diventa assessore a 37 anni diventa assessore a Roma a 52 anni gli anni 70 storicamente sono molto ma molto diversi dagli anni 90 94 per la precisione quando Nicolini assume l'incarico a Napoli ma ancora prima di leggere queste due tre paginette volevo rispondere ad un interrogativo che poneva questa mattina Franco Pulini dicendo come sempre in queste occasioni noi dobbiamo è una vecchia formuletta otto novecentesca ma sempre valida capire che cosa è ancora valido e che cosa non lo è più nella figura di Renato Nicolini che mi sembra un interrogativo inerodibile al quale comunque dobbiamo se non dare una risposta almeno una riflessione ecco io penso che la personalità culturale di Renato Nicolini sia oltre ben oltre il personaggio che abbiamo costruito di Nicolini e che egli stesso in qualche misura per amore del teatro ha contribuito a costruire sarebbe troppo facile pensare all'esempio della maschera trattandosi di teatro ma non non è questo è qualcosa di più sottile di più complesso noto eccessiva attitudine al raccontare aneddoti su questo straordinario personaggio e questo è sempre congiura sempre contro una capacità di comprendere invece in profondità le cose che questo personaggio ha messo in campo perché l'aneddoto racconta una tranche de vie può essere soggetta a interpretazioni più o meno simpatico più o meno decisivo per capire certe cose ma è comunque un elemento non decisivo Nicolini è ben oltre appunto quello che pensiamo di aver capito dalla sua opera e noi a questo dobbiamo puntare quando Franco Purini dice cerchiamo di capire che cosa resta di Renato Nicolini dipende da quale domanda facciamo in che modo e in quale direzione interroghiamo il personaggio quello più banale ovviamente in questi casi è una voce di dizionario aprita la Treccani 10 stentate righe dedicate a Nicolini con un incipit veramente significativo dopo aver completato gli studi di architettura si dedica alla politica quindi l'architettura scompare cioè scompare completamente la parola architettura e nelle altre otto righe si parla di questo impegno politico naturalmente inventore dell'estate romana e si chiude cronologicamente ci siamo con l'esperienza napoletana non bisogna criticare diciamo compilazioni di questo genere in un'opera enciclopedica che cosa resta poi di un personaggio resta veramente quello che fattualmente nell'opinione pubblica nell'immaginario collettivo noi pensiamo di questa persona quindi le voci di dizionario hanno la loro importanza e credo che alla fine questa scarna scheda biografica abbia centrato l'obiettivo cioè resta di Renato Ricolini l'inventore dell'estate romana e quindi un ruolo politico-culturale resterà l'architetto può darsi in una tesi di laureo o di dottorato qualcuno chiederà ad uno studente di indagare sulla figura di Nicolini progettista e troverà degli elementi di interesse lo possiamo interrogare su Ricolini studioso allora purtroppo ci sono anche delle regole ferrie piuttosto singolari dovremmo andare alla ricerca degli articoli molto interessanti scritti su controspazio ma piaccia o no alla fine resterà Roma capitale a conferma che nella stereografia alla fine i libri di storia hanno una vita più lunga dei ponderosi e impegnativi saggi e quindi resterà il libro scritto insieme con accasto e fratricelli perché un libro di storia certamente ha una vita più lunga una vita non solo storiografica ma una vita di presenza nel dibattito e quindi diciamo si mette insieme un altro tassello e poi gli amori o le passioni chiamiamole come vogliamo che sono il teatro il cinema e tante altre cose ecco allora è una figura polietrica naturalmente resterà tantissimo dipende da dove vogliamo interrogare in quale direzione però quello che è certo è che ci saranno sempre delle risposte interessanti che noi possiamo ricevere da questa indagine perciò il personaggio culturale è molto oltre la persona che noi stiamo costruendo cercando di limitare per quanto possibile ad una modica quantità l'anedottica sul personaggio che peraltro sappiamo caratterialmente lui stesso contribuiva ad alimentare seconda questione viene qui a Napoli è l'ho detto in premessa è un non solo un suo momento di vita molto diverso dall'esperienza romana ma è un momento in cui la politica cambia modo di esercitarsi qui a Roma di Colini è un assessore di una giunta fatta di partiti politici quindi c'è una struttura alle spalle alla quale in qualche modo bisogna rendere conto lui non lo fa ma naturalmente sono delle eccezioni che la dialettica di allora accetta nel 94 viene a Napoli chiamato direttamente da Bassolino il giorno precedente cado nella contraddizione di un aneddoto stavamo nella presidenza di Reggio Calabria Sandro Petruccioli Renato Nicolini ed io allora insegnavo a Reggio Calabria insieme a Renato entra la segretaria e dice il sindaco Bassolino cerca e ci guarda allora Renato alza gli occhi al cielo e dice ah sì sì è per me perché mi hanno detto che sono tre o quattro volte che mi ha chiamato ma io non gli ho ancora risposto torna dopo qualche minuto e mi dice allora torniamo insieme perché andrò a Palazzo San Giacomo Bassolino mi ha chiamato a ricoprire la carica di assessore e così nasce Bassolino gli dà poco tempo per decidere Renato dice tre giorni Bassolino dice no entro domani a mezzogiorno mi devi dare una risposta Renato alle 10 scioglie la riserva e accetta questa carica e questo pure è indicativo di un qualcosa che deve accadere nella sua vita sul piano personale psicologico perché la sconfitta dell'anno precedente in sede politica ha significato molto per lui e quindi c'è bisogno diciamo di nuove esperienze Renato Rigolini ha fatto parte della prima giunta a Bassolino dal 94 al 97 la sua esperienza napoletana del sessura all'identità un nome che mi sono ritrovato precisa con evidente disappunto poi nel libro non è una storia minore rispetto a quella dell'estate romana che gli è valsa l'ingresso nell'imperio della Treccani è una storia totalmente diversa più intimista più riflessa con una modica quantità di politica ed ampie aperture su un'ansia di conoscenza di cose del mondo che non gli avevano consentito nella fase romana il clamore e la sua sovraesposizione mediatica cosa spinge Nicolini a concedersi a Napoli come dice senza riposo la curiosità che ficca il suo muso da cane dappertutto gli viene il dubbio che siano stati altri ad aver già fatto questo paragone ed è la verità e allora ricorre alla psicanalisi all'ess e al superio la storia della fase napoletana è raccontata in due libri Napoli Angelica Babbele diario di un anno qui ritorna la celebre frase di Goet Napoli un paradiso abitato dai diavoli ci si gioca parafrasando su questa definizione di Goet e diventa Napoli Angelica Babbele stampato per la Rizzoli nel 1996 cioè un libro in presenza del svolgimento della carica che terminerà l'anno dopo nel 1997 è il racconto in presa diretta del primo anno di lavoro a Napoli a seguire nel 2011 per la Cleana Edizioni per amare Napoli il racconto questa volta indifferita delle molte cose che avrebbero potuto essere non sono state per colpa di mille cause e nessuna ragione di pochi eventi pienamente riusciti per grazia ricevuta verrebbe da dire viste le condizioni organizzative e una dotazione a lui spettante dello 0,06% come scritto e ribadito più volte con dispettosa rassegnazione di semi fertilissimi piantati in stagioni sbagliate di persone straordinarie e personaggi bizzardi di una Napoli nobilissima e di una Napoli caglioffa per una camorra pervasiva che più volte è decida come il vero cancro della città più nervoso il ritmo è singopata la prosa del primo libro con qualche cesso veniale di erudizione sempre molto pertinente ma non sempre indispensabile più riusciti i brevi paragrafi del secondo libro distesi nell'argomentare con una scrittura più rotonda quasi 15 anni separano il racconto dei fatti dal loro reale accadimento non c'è più la critique passionnée di Napoli Angelica Babbele emerge qualche goccia di arsenico nei confronti di Bassolino inevitabile quando manca un onorevole accordo negli spicolosi confronti politici le retiche di due libri restituiscono ecasticamente la mozione degli affetti con i quali Nicolini apre e chiude il rapporto con la città il primo libro parla del suo ruolo di assessore a Napoli nominato da Bassolino la dedica però è riservata ai sindaci romani Argan e Petroselli scelta all'insegna di un colpo di teatro dadaista verrebbe da dire o più verosimilmente di una raffinata maliziosità con Bassolino infatti non c'è mai stata intesa non c'è stata intesa di alcun genere né politica né personale il secondo libro è invece dedicato alle figlie Claudia e Cecilia che hanno segnato la vita e il paesaggio domestico a Napoli passi delicati e belli quelli che li riguardano bilancio positivo di questa esperienza sul piano della politica culturale per aver rianimato e del termine letterale una città assopita dopo gli squilli della giunta Valenzi il vero iniziatore di una politica culturale a Napoli bilancio più problematico e per certi versi parzialmente fallimentare sul piano delle realizzazioni rispetto alla quantità di idee e di programmi messi in cantiere la città dello spreco con Nicolini mostrò il suo volto peggiore sarebbe sbagliato e ingeneroso attribuirne all'assessore l'intera responsabilità a Nicolini invece va addebitato l'errore di non essere mai entrato per una sua opinabile scelta nella dialettica politico-economica che governa un'aggiunta comunale e nella quale risorse personali e attrezzature sono il frutto di dure e estrenuanti trattative da qui un ridotto peso politico del suo ruolo in città due preclusioni agli esordi sia a Roma che a Napoli a Roma era la federazione romana del PC a non volerlo ma Argan fu di parere opposto a Napoli era bastolina a volerlo ma l'intellettualità napoletana più tradizionale e accademica a rifiutare d'acchito questa nomina ferita nell'orgoglio campanilistico si disse un forestiero alla cultura nella città di Vico e di Croce recitando così una noiosa litania sempre presente nei momenti delle scelte avanzate altri pesero critiche ancora più demenziali anche se ammantate di riferimenti storici a cosa serve si interrogarono l'inventore dell'effimero in una città che l'ha anticipato di almeno due o tre secoli con le macchine da festa e gli apparati scenici urbani con questa Napoli il rapporto sarà inesistente o polemico per tutto il triennio sarà invece caloroso fino ad attingere l'idiglio in alcuni momenti con le masse generalmente festanti che partecipavano alle sue iniziative con un equivoco di fondo però che attraversava questo rapporto Nicolini non era uno di loro come a tutti piaceva immaginare e da questo convincimento traevano un ulteriore motivo di favore per il personaggio politico persino il manifesto cedeva a impropria analogia titolando Napoli già nicoliniana dal benvenuto all'assessore Nicolini Renato Nicolini era ed è sempre stato un intellettuale che ha gelosamente difeso la sua alterità cioè quel necessario dispositivo caratteriale e culturale che consente di partecipare senza l'obbligo della condivisione ne sono prove le sue sempre problematiche riflessioni sul concetto di identità era assessore appunto all'identità che accettava solo se richiamava quello contemporaneo di metamorfosi intesa come occasione di crescita e di continuo cambiamento scrive in proposito lo sconcetto questa è una frase molto interessante lo sconcetto la provocazione la contaminazione sono qui talmente di casa talmente quotidiane che non c'è nessuna ragione di mettere in scena un'autodiffamazione ma è ancora una dataista autocritica del potere istituzionale a Roma lo sentivo necessario a Napoli sento che non è compito mio che sono al lavoro in una città in cui le energie culturali e le capacità creative sono molto alte e più adeguate della mia si ritaglia in tal modo il ruolo di gestore di iniziative che vengono dall'esterno da Bonito Oliva riceve la proposta di convocare l'artista a Napoli in una rassegna dal titolo Le opere e giorni da Benedetto Cravagnolo Mimmo De Masi e Marino Liola l'idea di riproporre la festa di Grotta ma con artisti delle nuove generazioni musicali come gli Alma Negretta per sé riserva le due passioni dell'architettura e del teatro con le quali consegue risultati più strutturali e più duraturi per la prima l'architettura visite guidate alle periferie all'architettura moderna napoletana in nave e in tram nella rassegna all'autunno dell'architettura era interessante questa definizione di autunno dell'architettura perché volevano replicare l'estate dell'architettura a Napoli per motivi organizzativi non riuscirono ad organizzarla chiedevo scusa ma questa stiamo a togliere abbiamo sentito questa mattina che Nicodini a Roma dopo un sindaco egretto che si trovava e torsegni è stato arrivato secondo me con 33.000 voti cosa che io al momento io racconto l'unica cosa del partito che si è trovato contro e trombadori però dovesse rivedere tutte queste definizioni trombadori faceva parte non certo ma io sto parlando di Napoli per la verità le sto raccontando Antonio scusami Renato nel momento in crisi di Angera poi non ci ha proposto nel partito forse che non l'hai però quindi e torna a prendere servizio a Reggio Calabria ritorna alla sua attività di docente e lì diceva questa lettera del cui qualcuno del PC lo richiama questi sono i fatti stiamo analizzando il lavoro che ha fatto adesso vorrei fare un colore casomai intervieni vorrei finire loro poi intervieni poi alla fine se c'è da aggiungere qualche cosa no nel senso stiamo raccontando 20 ore sta come dire raccontando l'esperienza di Renato a Napoli poi da che cosa è stata motivata mi sembra la storia da la storia viene dopo ho imparato per fortuna sto qua per imparare può completare ecco ecco allora si doveva organizzare l'estate dell'architettura non ci fu tempo per organizzarla e quindi si disse siamo pronti verso ottobre novembre e lui disse va bene faremo l'autunno dell'architettura questa questa definizione si concertò tutti perché naturalmente la stagione dell'autunno e la stagione del tramonto e così via invece ricolini la considerava un elemento di grande attività questa espressione l'autunno dell'architettura sfociata poi nella guida di Napoli della Cleana di Sergio Stendi a Vito Cappiello promotore del premio Cosenza nel 96 medaglio d'oro a Giulio di Luca ricordo di Aldo Rossi al teatro mercatante con Eugenio Bennato architetto Paolo portoghese Alberto Ferlinga salvatore e bisogno per il teatro propone d'acchito una rassegna teatrale internazionale a piazza prebiscito subito esclusa per motivi finanziari si investe sul mercatante con rapide aperture e ancor più leste chiusure sempre per ragioni economiche è mia opinione comune che la definitiva consagrazione del mercatante come teatro nazionale abbia avuto in Nicolini un anticipatore collegato in qualche modo al teatro la sua ambizione fuori misura e competenza istituzionale a parva e più di creare a Napoli il terzo polo televisivo dove Roma e Milano mai decollato paga un prezzo equo a iniziative nazional popolari come innamorarsi a Napoli sostenuto dalla Perugina chiude negli ultimi mesi del suo mandato con un ardimentoso proponimento tipicamente a Nicoliniano la rivalutazione del banale che scrive con la B maiuscola napoletano fatto di pizza mandolino vesuvio e sole contro gli odiatori del chiaro di luna secondo la lezione di Marinetti a Napoli nella tradizione del Grand Tour e chiudo si arrivava nei primi mesi dell'anno da Roma e si ripartiva a primavera inoltrata Lugonotto Misson con la certezza di aver visto una delle città più belle del mondo Gregorovius con piacere ma staccato a mano in cuore dai vasi del Museo archeologico nazionale Gate con lo splint per la fioritura dei limoni che poi era desiderio di paesaggi isolari e di classicità con forme contemporanee Renato Ricolini è stato uno degli ultimi Grand Tourist giunti a Napoli nella tradizione del Grand Tour con lo stesso preconcetto della mediterraneità che aveva animato i viaggiatori del passato e che nella loro esperienza concreta in città cercavano conferma o smendita di ciò che avevano visto e studiato in patria ci sono buone ragioni desulte dai suoi diari per credere che Nicolini come Gregorovius si è ripartito con piacere per Roma ma staccato a malincuore dalle antiche e moderne pietre di Napoli grazie che ha raccontato come dire ci ha reso conto di quello di cui da tutti i testi di Renato di Corini si è un po' si evinceva cioè delle difficoltà che Renato ha avuto a Napoli con Bassolino ma soprattutto delle difficoltà iniziate a Roma dopo la candidatura da indipendente non certo sostenuta dal Partito Comunista Partito Democratico di Sinistra allora che sosteneva Rutelli piccola nota familiare Renato si è candidato proponendo Franco Purini come assessore all'aurobanistica e il risultato è stato che Renato Nicolini è stato come dire estromesso dalla vita del Partito in qualche modo e per anni sotto la giunta di Rutelli la battuta era tutti tranne Franco Purini quindi noi per anni non abbiamo preso neanche un piccolo lavoro nemmeno una piazzetta ecco ma queste sono come dire quando ci si espone è giusto che sia presenti a questa cosa qua vorrei dire dopo se non ci fosse stato Napoli Renato è diventato prima ricercatore quando era assessore nel frattempo per il suo contributo all'architettura che è stato continuo nella saggistica nelle presenze dei convegni eccetera era diventato ordinario di progettazione architettonica a Reggio Calabria dove però non aveva preso servizio perché stava svolgendo la sua funzione di deputato torna quindi a Reggio Calabria nel 96 e riprende riprende le sue dai programmi dei corsi risulta che lui ha preso servizio nel 96 direi 94 ecco come e nel frattempo però ha ricoperto vari ruoli istituzionali vicepresidente del Festival dei Due Mondi commissario del Teatro Stabile dell'Aquia eccetera che gli hanno permesso di approfondire questa passione che è nata nei confronti del teatro nell'estate negli anni 79 con l'estate romana eccetera ma che era già presente perché dagli inizi perché Renato ha vissuto il film Utopia Utopia con una grande partecipazione a Renato piaceva recitare quindi quando fare l'attore lo divertiva molto non sempre era convincente infine casomai vi racconto un piccolo episodio anche divertente ma insomma allora Renato Nicolini riprende la sua attività a Reggio Calabria dove 94 mi corregge il professore Ottavio Amaro al quale che ho invitato a come dire esporre analizzare l'attività di Renato a Reggio Calabria centrato oltre che essendo l'insegnamento nella copertura dei corsi di progettazione architettonica anche perché fonda nel 2000 il laboratorio teatrale di Reggio Calabria con Marilu Prati lei presenza anche l'ho citato anche stamattina una presenza determinante in questa come dire sua attività il laboratorio teatrale è stato un evento molto importante per Reggio Reggio è comunque sempre stata lo era ma è sempre forse lo è seguito da essere una facoltà marginale e quindi lui ha convogliato su questo laboratorio teatrale che è chiamato Le Nozze insieme a Marilu Prati tutta una serie di istanze che venivano dalla parte più creativa degli studenti di architettura do la parola al professor Amaro si chiamerei Francesco Spinelli che mi coadiverà fare insieme questo intervento Francesco Spinelli è il primo collaboratore di Renato Nicolina al laboratorio Le Nozze Reggio non è un cup di teatro ma vuole essere un intervento a due voci su queste esperienze intanto ringrazio Laura Termes e l'Accademia per questa opportunità di parlare di questa esperienza di Renato Nicolini a Reggio Calabria un modo intanto per parlare delle esperienze di questi 25 anni anche se poi con una lunga assenza per motivi parlamentari però dal 94 al 2012 è stata costante la sua presenza quindi ricostruire un po' questa esperienza che a mio modo di vedere non è isolata non è altra cosa da quello che stavamo discutendo oggi ma è una sorta di continuità anche una come dire un approfondimento di alcuni temi l'effimero per esempio nell'esperienza di Reggio Calabria e poi mi dà modo anche di ricostruire un pezzo forse di questa scuola di Reggio Calabria a cui come dire hanno contribuito da Franco Burini Laura Termes Alessandro Anselmi ed altri quindi lo faccio con molta come dire trascinamento anche se con molte difficoltà perché non è facile ricostruire una vicenda che ha molte sfaccettature molte esperienze e bisogna ricostruire anche una serie di documentazioni per una azione di Renato Nicolini appunto multidisciplinare poliedrica ma fatta di frammenti non si trovano tanti scritti o pubblicazioni sintesi su Reggio Calabria e via di seguito introdurrei con un ricordo di Renato Nicolini uno scritto di Renato Nicolini proprio che introduce la scuola di Reggio Calabria in qualche modo è stato come rettore dell'università che era nata dall'istituto superiore di architettura che Antonio Quistelli mi ha accolto a Reggio quando ho preso servizio prima come professore straordinario e poi ordinario in una facoltà di architettura conforme a queste aspirazioni cioè di una capacità concettuale di connessione dell'architettura e del design al paesaggio all'arte al video al cinema allo spettacolo credo che accogliendomi più con osservazioni laterali che con un discorso me ne abbia allora comunicato lo spirito è così Renato Nicolini appunto viene nell'87 nominato a Reggio Calabria poi di fatto prende servizio nel 94 anche se in quella fase parlamentare veniva spesso a seminario anche a qualche consiglio di facoltà e a qualche attività diciamo di tipo culturale ecco io Pasquale Belfiore mi ha anticipato in un'idea io ho un'idea di Renato Nicolino a Reggio come diciamo un grande viaggiatore un viaggiatore del Grand Tour che viene al sud tra l'altro lui parla spesso dei viaggiatori nelle sue lezioni nel teatro in alcuni iscritti che fa è molto affascinato di questo diciamo descrizione dei viaggiatori che ne fanno del sud e della Calabria in particolare un viaggiatore che sicuramente come dire interpreta anche come dire il carattere multidisciplinare del viaggio che era appunto letterario che era anche antropologico storico archeologico soprattutto quindi anche architettonico e sicuramente iconografico e questa era un'idea che lo accompagnava anche come dire nei corsi ma anche nel teatro Norman Douglas era uno degli autori che lui citava citava molto e secondo me come Norman Douglas proprio ha uno sguardo sulla Calabria questo sguardo doppio una Calabria che come dire vive di degrado di smarrimento di abusivismo comunque di immagine negativa di una rappresentazione negativa e invece una Calabria che in qualche modo ha nella storia nell'antichità nell'archeologia un'idea di grande come dire identità di grande passato di che ha costituito un po' la meta di molti viaggiatori in cerca di questo giardino d'Europa e proprio come Norman Douglas è come dire che non in qualche modo non esitava a descrivere i lati negativi della Calabria ma come Norman Douglas era alle ricerche del patrimonio storico-culturale di questa regione e queste due anime che io definisco dramma e bellezza sempre nelle cose che faceva Nicolini nei corsi e soprattutto nel teatro dove diciamo all'abusivismo che è stato uno degli elementi di ricerca che lui poi ne parleremo meglio quindi all'idea proprio di mancanza di identità del paesaggio corrisponde invece un'idea di classicità di archeologia straordinaria che lui cerca come un viaggiatore in Calabria da nord a sud viaggiando per tutti i posti lasciando idee appunti parlando con amministratori in qualche modo un'attività che lo affascinava questa ricerca e questa conoscenza sulla regione nella azione di Renato Nicolini questi 25 anni che è stato a Reggio io intravedo appunto questo filo conduttore che attraversa la didattica la ricerca e anche il teatro un filo conduttore unico che viaggia appunto tra questa idea di degrado di città abusiva di come dire paesaggio che non riconosce la sua identità e invece dall'altra parte questa ricerca soprattutto nei paesaggi e l'archeologia di una Calabria importante forse diciamo sono due facce che hanno la stessa come dire caratteristica si parla di rovine rovine archeologiche ma rovine contemporanee quando parla dell'archeologia industriale quando parla delle coste calabrese disabitate nei villaggi turistici o delle seconde case parliamo sempre di rovina e poi lo vediamo anche nella ricerca che fa sull'area industriale di Crotone quindi un doppio sistema dal degrado alla diciamo ricerca di identità nella classicità e sono i temi che lo accompagnano in tutto questo suo viaggio in Calabria in questi 25 anni come dire parlando e sottolineando sempre un paradosso per una regione che ha superato diciamo completamente il boom economico non è stata coinvolta per niente allo sviluppo industriale e lui lo vedeva come un fatto invece positivo il fatto che ripartiva da una invece integrità si ripartiva da zero non avendo avuto non avendo subito forse i torti dell'industrializzazione prego nella mia narrazione del futuro della Calabria ha molto spazio la risorsa immateriale per eccellenza sempre più rara nel mondo globale dove tutto si uniforma perdendola la capacità di generare immaginario il paesaggio calabrese può emozionare oggi come emozionava i viaggiatori del settecento e dell'ottocento nella Spromonte nel Pollino nella Sila nel Lao nel Savuto nel Neto nelle coste l'immaginario genera produzione culturale e industria culturale che non deve esaurirsi nel turismo ma mirare oltre per generare qualità offerta e domanda alta vediamo ecco faccio una carrellata di questo viaggio un po' di tutte e tre le esperienze dalla didattica alla ricerca e al teatro e come questi due temi di cui parlavo un po' costituiscono il ferruge di questo suo impegno e di questa sua azione lui appunto è docente di composizione architettonica dall'87 però di fatto diciamo è nel 94 e comincia la sua attività all'inizio con un corso teorico in cui parla appunto attraverso la teoria della ricerca architettonica un po' e alla ricerca più del pensiero critico per gli studenti da alcuni libri abbastanza nuovi per la tradizione la nostra facoltà però è un corso completamente teorico si ragionerà intorno alle città come libro aperto di architettura prova della sua storicità e fondamento della sua razionalità anche analizzando materiali volgari come le guide turistiche ci si soffermerà su testi della cultura contemporanea che sono particolarmente rilevanti per la cultura dell'architetto valga per tutti l'esempio dell'inizio di Masse e Potere di Elia Scanetti o il saggio Perché i poeti del tempo della povertà di Martin Heidegger dopo questo primo corso teorico invece entra nello specifico dell'insegnamento della composizione architettonica e inizia tutta una serie di corsi incentrati più su questa specificità della Calabria su questo suo interesse che erano le aree archeologiche i musei ma anche gli spazi culturali i teatri e lo spazio pubblico i corsi sono tutti monografici spesso e si collegano alle ricerche ho iniziato questa ricerca sull'area di Croton e viene subito legata all'insegnamento didattico poi vediamo anche come così come poi invece dal 2001 al 2011 amplifica questo suo interesse anche all'area del Mediterraneo con il laboratorio di sintesi finale che fa insieme a Massimo Giovannini dove invece l'interesse sulla Tunisia sul Nord Africa con una serie anche di tesi di laurea su Netta e insieme anche alla messa in scena di alcune diciamo rappresentazioni teatrali che coinvolge sia le scuole appunto tunisine che le scuole calabresi e nello stesso tempo lui fa parte di questa scuola fonda questa scuola di alta formazione in architettura e archeologia insieme a Settis costabile e lo sardo la figura di Rosaldo soprattutto in questa fase è molto importante poi purtroppo ci lascia abbastanza presto però è una figura importante che lo accompagna nelle ricerche nelle messe a punto nelle ricerche anche dai corsi didattici che fanno in maniera coordinata il corso di alta formazione è un corso importante che ha un'influenza su tutta l'area mediterranea con studenti che vengono da diverse parti del Mediterraneo e queste sono alcune tesi che fa su Neft alcuni esempi molto veloci e poi comincia anche una serie di workshop in Sicilia ma due veloci anche le tesi di dottorato che fa sempre sull'area archeologica quindi è un interesse che coltiva in maniera molto forte lui ha molto diciamo l'insegnamento di Renato Nicolini si è pure accennato in qualche modo stamattina non è un insegnamento ortodosso della disciplina era poco interessato forse come dire alla ricerca degli elementi grammaticali o degli elementi appunto più disciplinari ma era interessato molto al pensiero critico degli studenti aveva un rapporto molto diciamo non ideologico e comunque non rigido molto laico e quindi di confronto ma era interessato proprio allo spirito critico degli studenti e questa cosa era molto apprezzata spesso anche anche degli studenti la ricerca velocemente lui a Reggio diciamo sintetizzato in quattro momenti la ricerca che conduce a Reggio la prima è sull'archeologia di Croton questa è un'area industriale di Crotone con Lo Sardo del 95 la seconda è Rottamare il Degrado Calabria di rigenerare sempre con Piero Lo Sardo poi c'è una collaborazione di cooperazione Italo-Tunisina che fa insieme a Luciana Menozzi la ricerca paesaggio identità sempre sulla Calabria finanziata dalla Regione Calabria è proprio un print che lui però non conclude perché diciamo ci ha lasciato prima e in questo print viene solo riportato un testo che lui aveva scritto per Crotone di Fanno l'area si presenta visivamente come un ossimoro l'accostamento di contrari il luogo dell'antica Croton e l'architettura industriale delle fabbriche il silenzio dei millenni trascorsi e il rumore appena cessato appena un attimo fa della produzione ma anche il mare e la terra la campagna sì questa cosa dell'area di Crotone c'è una ricerca che l'ha intrigato moltissimo e questo diciamo parallelismo tra un'area di smessa archeologica e un'area di smessa industriale era un tema che lui ha affrontato in diversi scritti citando anche un confronto c'era Cellini primi con appunto con Cellini sul concetto di area archeologica come area di smessa Crotone non c'erano più le tute blu una vasta area industriale sull'area archeologica e lui l'affronta in maniera disincantata recuperando parte di quest'area industriale affermandosi su alcuni elementi sulla ferrovia in particolare la stazione che diventa tema per il corso didattico diventa tema di ricerca perché la stazione doveva diventare questo punto di informazione e momento di una rete che lui proponeva sull'archeologia della Calabria che da Sibari Crotone Caulon Locri e Reggio doveva rappresentare una rete archeologica dei parchi archeologici questa riscoperta della classicità della Calabria di questa grande risorsa che lui pensava e poi inizia un argomento molto importante per lui che riprende anche nell'altra ricerca Rottamare il degrado che è questa idea un po' ripresa dalla scuola archeologica francese Georges Vallè degli anni 50 che in Calabria studiano la parte di archeologia e che ribalta un po' l'interpretazione cioè andando a indagare sulla geografia della Calabria sul rapporto che tra un sistema insidiativo magno greco e la morfologia la geografia della Calabria soprattutto legata ai bacini idrografici che è un tema che l'appassiona molto e che inizia da Crotone che appunto sorgeva sul bacino del Neto e che va appunto a interpretare qual è la struttura morfologica e geografica e come l'insiediamento greco si era posizionato rispetto invece a una geografia che negli ultimi soprattutto cento anni si è modificata attraverso un'infrastrutturazione molto sovrastrutturale che ne ha cambiato i connotati soprattutto con l'abbandono o la distruzione o il degrado dei bacini idrografici il fascino il fascino il fascino maggiore dell'idea di Magna Grecia è che questa si collega quasi immediatamente e naturalmente all'idea di paesaggio classico cioè di bellezza naturale quasi incontaminata solo rendendo il più possibile visibile almeno parzialmente per frammenti per esempi oltre le pur abili ricostruzioni multimediali questa bellezza originaria la Calabria di oggi potrà soddisfare l'attrazione per la Magna Grecia e a questo punto e soltanto a questo punto che si possono progettare i possibili collegamenti tra questa rete di interventi ed il sistema nazionale dei musei e delle aree archeologiche della Magna Grecia in modo di far finalmente corrispondere il nome e la cosa ecco questi discorsi sulla Magna Grecia sulla rete dei musei della Magna Grecia venivano in qualche modo messi a confronto con l'area industriale di Grotone creando un po' di smarrimento anche degli amministratori stessi che pensavano di fare come dire piazza pulita del sistema industriale dismesso ma che lui invece recuperi una dialettica anche con le preesistenze soprattutto con la rete ferroviaria che secondo lui rappresentava un elemento da come dire con cui interloquire con il progetto e che in questo senso era molto architetto e progettista anche appunto Renato Nicolini sarebbe bello un parco letterario dei filosofi presocratici che scelga gli ambienti più opportuni per entrare in sintonia col pensiero di Parmenide Empedocle Pitagora eccetera uno sul sistema greco delle acque dalla cima alla costa questo intervento può in alcune parti configurarsi come un vero restauro del paesaggio classico condizione fondamentale per far corrispondere maggiormente l'immagine della Calabria alla sua immagine ideale ecco dopo questa prima ricerca su l'area di Croton lui propone un'altra idea molto che ha avuto molto successo è stata anche finanziata poi dalla regione Calabria che era questa fatta insieme a Piero Losardo e Rottamare il degrado Calabria da rigenerare come dire era la fase in cui il governo Prodi aveva lanciato la famosa idea di rottamare gli autoveicoli e quindi avere un corrispettivo diciamo un contributo a coloro i quali avessero rottamato i vecchi veicoli trovava questa analogia anche con con le case quindi una sorta di incentivo economico a chi voleva rimettere in gioco diciamo gli elementi abusivi in un'idea di progetto di demolizione o di rifacimento dell'abusivismo dell'edificio abusivo del manufatto abusivo con un meccanismo appunto molto interessato e quindi anche attraverso un concorso fotografico che è un'indagine che ha fatto sia con gli studenti ma anche con la ricerca ho partecipato pure io a questa ricerca come dire raccoglie una quantità di materiale che è stato poco sintetizzato poi in questa pubblicazione che è estremamente sintetica ma anche in questa ricerca dove classifica diciamo l'abusivismo il degrado delle infrastrutture delle seconde case dei villaggi turistici dei bacini fluviali torna all'archeologia cioè se noi dobbiamo parlare di recupero anche di queste vaste aree attraverso la rottamazione ma è nell'archeologia e soprattutto nel sistema diciamo geografico della Calabria che lui cerca di ritrovare il risanamento e la come dire l'identità di questi di questi paesaggi e in particolare a parte gli strumenti urbanistici dal PRG ai piani paesistici la rottamazione è uno strumento di natura diversa analoga ad un contratto stipulato tra un potere pubblico ed un potere privato la demolizione compensata da qualcosa dalla nuova edificazione consentita in altri luoghi compensando così i diritti ceduti o anche nello stesso luogo quando una nuova edificazione di qualità sia compatibile con l'ambiente rispetto a tutto questo lavoro poi si la ricerca diciamo si sofferma su un elemento che secondo Renato Nicolini era qualificante e estremamente diciamo importante nella rigenerazione di questo paesaggio calabrese che erano appunto i bacini idrografici che aveva già accennato nella prima ricerca questa struttura fluviale che caratterizzava appunto le vie dell'acqua che caratterizzano la Calabria e mettono in contatto interno e esterno e che avevano messo anche in contatto il mondo greco dalla costa ionica alla costa tirrenica viene preso come elemento per una possibile come dire rinascita di questo paesaggio concentrandosi sul degrado di queste aste fluviali dal tombamento quindi dal non capire dalla non consapevolezza che diciamo l'intervento pubblico aveva avuto a casa per il mezzogiorno soprattutto andare a rigidire a coprire a distruggere questa qualità delle vie dell'acqua invece proprio riprendendo questo concetto che era della scuola francese come dicevo prima che ha tirato fuori questa cartina dove come dire tutto il sistema insidiativo della Magna Grecia era legato a questa esistenza dei bacini idrografici che a loro volta avevano una corrispondenza tra ionica e tirrenica individuando questi sistemi fluviali e laucoscile crati e il savutoneto mesima metramo torbido alla foce di questi diciamo bacini fluviali esistono le più importanti colonie della Magna Grecia la possibilità di un metaprogetto cioè di un progetto del progetto che si proponga come condizione preliminare ed agente efficace della riqualificazione urbana la riqualificazione ambientale a partire dalle vie dell'acqua i collegamenti da mare a mare passando per la cresta della Spromonte della Sila del Pollino e si rifanno del resto al sistema di trasporto terrestre della Magna Grecia l'opera di riqualificazione urbana della Calabria innescata dal paesaggio classico coincide con la restituzione con interventi differenziati dal piano paesaggistico ai parchi archeologici dall'effimero alla realtà virtuale della possibilità di vedere i diversi tempi storici che si sono succeduti attraverso i secoli in Calabria insomma di nuovo far corrispondere al nome la cosa e da qui si passa all'altra ricerca che è una grande operazione che la regione Calabria voleva fare ha fatto in qualche modo dal titolo paesaggio identità dove il coordinatore scientifico era Renato Nicolini è una grande ricerca con grosse anche risorse finanziarie che mette in campo diversi giovani ricercatori anche della nostra università che fanno una sorta di grande monitoraggio e censimento lui diceva quasi impossibile dell'abusivismo in Calabria una ricerca anche ambiziosa da parte della politica ma che lui interpreta in maniera abbastanza diciamo aperta e forse poco in sintonia con quello che pensavano alcuni politici l'idea era quella di questo grande atlante del degrado delle coste in Calabria missione quasi impossibile consapevolmente impossibile anche per Renato Nicolini però avviano queste 5200 come dire manufatti abusivi iniziano a fare delle classificazioni per tipologie di abusivismo c'è anche qualche intervento riescono a in qualche modo liberare lo scoglio d'Ulisse a Scilla da un edificio abusivo quindi ci sono anche dei risultati importanti è una grossa operazione che insomma dalle periferie urbane ai fiumi alle aree dismesse a tutta l'industrializzazione dismesse che c'era sulla costa riesce in qualche modo a tirare fuori dei dati in questo progetto impossibile ma anche come dire in qualche modo ideologicamente impossibile perché l'idea era la fase in cui si parlava del famoso concetto di ecomostro a cui Renato Nicolini in maniera molto chiara risponde anche ad alcune esigenze che l'assessore regionale poneva perché come dire in maniera troppo facile si parlava di ecomostro e quindi si pensava di fare una schedatura che era più su carattere tecnico-giuridico fattore che interessava forse di meno Renato Nicolini non si può pensare alla demolizione se non si pensa assieme alla sistemazione del luogo durante e dopo la demolizione se si può trarre una conclusione dalla ricerca paesaggi e identità è che il concetto di ecomostro è sbagliato alla radice perché ciò che oggi distrugge paesaggio ed identità non è qualcosa di eccezionale ma qualcosa di diffuso che va combattuto con la quintessenza stessa del progetto qualcosa che va oltre la singola architettura la capacità cioè di proporre delle norme generali efficaci e largamente condivise ecco arriviamo al laboratorio teatrale dicevo prima che io non la vedo in maniera staccata questa attività ma lui cerca di come dire trattare complessivamente i temi che ha trattato nella didattica e nella ricerca il teatro per Renato Nicolini nasce con il laboratorio Le Nozze insieme a Marello Prate lo diceva anche Laura Termes dal 2002 al 2012 coinvolgendo circa 100 studenti tra cui anche Francesco che a quell'epoca era studente e mettendo in scena 33 spettacoli che da Reggio Calabria però siano ampliati anche in alcune aree del Mediterraneo ma anche a livello nazionale a Roma alla Biennale di Venezia in altre occasioni importanti la guida census a un certo punto nel 2007 parlando dell'Università di Reggio Calabria sul Repubblica dice che il laboratorio teatrale della Mediterranea è il fiore all'occhiello appunto di questa di questa scuola il laboratorio per lui diciamo ha un valore molto formativo legato all'insegnamento dell'architettura e della città ma non solo in alcune cose che scrive come diciamo la fondazione della città ed altre poi ma soprattutto in quell'idea di teatro del paesaggio teatro vagante e tutto il rapporto col laboratorio progettuale dove anche gli studenti andavano a fare performance nelle periferie o diciamo questo teatro che si trasferiva nelle aree archeologiche inventando anche la rassegna della Magna Grecia inventando il treno della Magna Grecia tutta una serie di idee che ha messo che ha messo in conto e quindi questo legame con l'insegnamento e il suo laboratorio era assolutamente stretto come era stretto il legame tra teatro e i temi dell'archeologia e della classicità della Calabria è un'attività che l'ha portato anche a avere un grosso ruolo politico in città vedremo tutta la battaglia che ha fatto per il recupero del teatro Siracusa a Reggio Calabria riaprendolo impossessandosi come laboratorio dalle nozze dando agli studenti e in qualche modo recuperando una parte importante del sistema culturale della città lui pensava a questa grande rete dei teatri calabrese dal Rendano di Cosenza a quello di Paolo Portoghesi di Catanzaro al Cilea di Reggio Calabria ma anche ai teatri minori in modo che appunto diventassero momenti di qualificazione della cultura ma anche di avvicinamento delle persone alla cultura teatrale soprattutto alla riscoperta delle aree archeologiche della Calabria questa è la prima rappresentazione del 2002 le nozze appunto di Elias Canetti che poi replica nel 2004 c'era forse il pezzo che dovevi leggere Francesco capisco sempre di più di quanto abbia peso nella mia esperienza teatrale il fatto che io sia un architetto l'esperienza del laboratorio teatrale dell'università di Reggio Calabria che ho iniziato con Marilu non nasce forse dalla scelta di mettere in scena un testo molto intrigante per un architetto come le nozze di Elias Canetti la prima stagione con tre spettacoli dal 2002 al 2004 era esplicitamente dedicata alla crisi dell'architettura un saggio e tre capitoli il primo vede la crisi morale della morale sociale fino a produrre il crollo dell'abitazione il secondo spettacolo era la prima parte di stato d'assedio di Albert Camus raccontava il crollo della città il terzo atto senza parole di Beckett ci racconta invece il crollo del progetto facciamo una carrellata veloce un po' perché forse stiamo sforando ecco questa è la fondazione della città e abbiamo messo la foto della rappresentazione replicata a Barletta ma che parte da Reggio lui in questo caso fa Alessandro Magno che parla con con architettura è un testo che va scritto per il convegno dei dottorati di ricerca nazionale che sono venuti a Reggio Calabria che è stato presentato per la prima volta a Reggio Calabria che dalla torre di Barbele all'architettura della città di Aldorossi a tutta una serie di testi che vengono messi in scena lo spettacolo centrale della seconda stagione dedicata alla riscossa della città alla sua vitalità politica è stata una mia drammaturgia una rivista di architettura intitolata la fondazione della città uno spettacolo che ha avuto tanto successo da venire richiesto anche a Roma è stato Romana alla Sapienza al Castello Svevo di Barletta al Seminario Internazionale di Architettura di Camerino mentre procedeva la mia esperienza teatrale come è più bella la prima redazione della missione teatrale di Wellenmeister di Goethe della sua elaborazione definitiva si operava una sorta di resettamento della mia coscienza e qua appunto stato d'assedio la riscossa della città del Berchiammiù che è questa quella del 2005 naturalmente ha parecchio diciamo spazio sulla stampa locale anche nazionale il 2006-2007 i giorni della comune di Brecht e poi siamo a Lice della Polis e poi i visioni di Gesù con Afrodite testo di Giuliano Scabbia scenografia da Medeofago dove mette a punto questa idea di teatro vagante teatro del paesaggio e questa rappresentazione che si svolge in alcuni paesaggi del mito il mito dello stretto ma che poi si trasferisce a Pentedattelo si trasferisce nel parco archeologico di Medima e poi a Saline il paesaggio reggino sfondo il nuovo spettacolo del laboratorio teatrale sono alcune scene appunto e poi Elissa la regina errante insieme a Marilu Prato del 2008 che viene portata alla Biennale di Venezia ma parte da Netta nella foto piccola vedete anche Luciana Menozzi che coordinava la ricerca internazionale che è stata messa anche ha avuto un ruolo nello spettacolo la stampa il manifesto il manifesto e l'unità seguono molto il laboratorio teatrale Le Figlie del Sole adattamente Renato Nicolini e questa qua è una rappresentazione che lui porta al teatro questa iniziativa questo evento che fa la Calabria Magna Grecia Teatro Festival che è stata una rassegna ispirata e voluta da Nicolini e suggerita appunto da Nicolini questa è Adele Cambria che segue molto le attività del teatro e scrive anche una cosa poi insieme a Nicolini ecco La Reggio dei Miti dopo Didone che è un adattamento teatrale di Renato Nicolini su un testo di Adele Cambria qua ecco una tele di Cambria e poi ecco alcune performance alcune iniziative che ha fatto anche nel laboratorio nel Lida non vedo Laura i laboratori internazionali di architettura che erano direttrice era Laura Termes partecipa la compagnia le nozze con un laboratorio che era questo architetto Campos Carlos Campos e lui mette in scena appunto qua di Samuel Beckett in questo caso diciamo al controllo della geometria del quadrato aggiunge questo polore aggiunto del paesaggio in questa scenografia che è appunto lo stretto visto dall'Università di Reggio Calabria la stessa rappresentazione quad insieme a Carlos Campos la fa nelle due città nello spazio pubblico di Reggio e Messina il laboratorio lì da quell'anno era sulle città sulle città dopo il terremoto del 1908 questo spazio pubblico e questo sistema di scala ascensionale questa sezione che diciamo in qualche modo accomuna le due città Messina e Reggio veniva esaltato sia dalla diciamo messa a punto nel laboratorio di Carlos Campos ma sia appunto a questa messa in scena di Renato Nicolina attraverso la compagnia che riproponevano quad di Beckett all'interno appunto di questo spazio pubblico di Reggio e di Messina nello stesso seminario si parlava di terremoto mette su un testo l'aurora dopo il terremoto l'aurora è la famosa nave che soccorre nave russa che soccorre diciamo le due città subito dopo la catastrofe mette insieme una serie di testi da Mayakovsi Pasolini soprattutto Norman Douglas che raccontano appunto questa tragedia del terremoto Pasolini rispolverei i viaggi degli anni 50 al Reggio Calabrio ricevono diversi premi vado veloce poi con nel 2009 propone la Babbele ed Edoardo adattamento e sono gli anni in cui inizia anche una battaglia diciamo per il il teatro di Siracusa perché veniva minacciato di chiusura l'università in qualche modo è una fase molto particolare ci stiamo avvicinando alla legge gelmina l'autonomia delle università i bilanci venivano ristretti vengono tagliati i viveri si entra in crisi e Renato Nicolini insieme alla compagnia ma direi insieme a diverse associazioni della città fanno una battaglia vera per il teatro di Siracusa dopo appunto la rappresentazione di Edoardo e quello di palcoscenico viene riproposto con questo slogan battaglie interviste articoli di giornale performance in città occupazione di spazi pubblici quindi un'attività abbastanza intensa anche sul piano politico nel 2009 faccio vedere alcune tappe importanti ripropone questa che viene portata anche il linguaggio part time il linguaggio della montagna di Pinter che viene riportata anche al teatro Quirino a Roma e poi la brocca rotta a Ferramonti Ferramonti è il campo di concentramento più grande d'Italia che si trova appunto in Calabria è una rappresentazione importante che viene proposta sia a Cosenza a Ferramonti che a Reggio al teatro Siracusa nel giorno della memoria e qua alcune azioni fatte con il laboratorio di progettazione e il laboratorio appunto le nozze nelle periferie di Reggio questo era proprio il 2012 e siamo proprio alla fine quando come dire lui questo è durante l'anno accademico 11-12 poi ad agosto appunto non c'è più però questo qua era primavera oppure il teatro dicevamo di paesaggio con questa rappresentazione al parco archeologico di Meddima e l'ultima rappresentazione Pirandello 3 vestire gli ignudi che lui giudicava vero Francesco una del migliore regia che aveva fatto ma è proprio stata l'ultima questa qua è una foto con il gruppo il teatro diciamo che aveva grande successo c'è un gruppo ormai folto e sperimentato di attori studenti e di collaboratori tecnici in un certo senso ci sentiamo quasi dei privilegiati abbiamo un organico da teatro stabile tutto basato su vero volontariato questa adesione si spiega soltanto con la passione con il fatto che chi partecipa sente di ricevere davvero in termini di esperienza e di conoscenza qualcosa in cambio una formazione che non si esaurisca nei propri confini disciplinari è particolarmente importante nell'università dei crediti formativi un terreno inevitabilmente autoreferenziale che corre il rischio di chiudersi proprio quando magari sta pensando di specializzarsi e sì in quegli anni appunto di grande fervore anche di protesta per il teatro fonda questa associazione si chiama il carro consorzio arti reggino resistente ottimisti direi l'ottimismo purtroppo si infrange poi sul Siracus diventa dopo di lui un fast food un fast food lo fa insieme alla casa editrice questo città del sole questa associazione con la casa editrice città del sole con cui appunto ripubblica le state romane con l'introduzione di Jack Lang avrò sempre un rimorso verso Antonio Quistelli con lui dovevamo fare un duetto nell'aulamagna della facoltà di reggio il titolo era stato già scelto la matita sottile titolo più sulla misura di Antonio che mia identificato piuttosto dai libri che porto sempre con me magari in un sacco di plastica che dalla matita in qualche modo insieme però rappresentavamo due capacità diverse di osservazione con leggerezza senza la retorica che uccide che ci portavano a vedere le tante sottigliezze possibili dell'architettura Antonio attraverso il disegno che usava con uguale facilità di precisione analitica e di sintesi formale io per capacità di accostamento nelle tante applicazioni che può avere nella città dell'immaginario architettonico ad altri immaginari attemperare tutto la necessaria ironia che gli Enin lo dico con spirito generazionale cui anche Antonio sarebbe stato sensibile la comunione militanza nel PC definiva la prima virtù del rivoluzionario poi per una questione di date un mio impegno l'incontro non si tenne ho pensato a intermittenza che fosse possibile recuperarlo e poi si pensa che gli amici siano immortali ecco mi piaceva concludere così con questo ricordo di Quistelli che rappresenta appunto quello che ha fondato la scuola di Reggio e con cui Nicolini appunto scrive questo ricordo malinconico e questi sono i tre manifesti che abbiamo fatto nel 2013 mi pare 14 su tre giornate per Renato Nicolini grazie grazie ringrazio Renato Nicolini e il collaboratore che ha lavorato con Renato ringrazio Ottavio Amaro e chi ha lavorato con Ottavio Nicolini che ha letto alcuni brani dei suoi testi e devo dire anche particolarmente perché mentre l'attività del laboratorio teatrale a Reggio Calabria di Renato è stata sempre ampiamente nota e anche documentata e anche conservata c'era un momento in cui Marilu Prati voleva che fosse anche fatto una specie di archivio che non so che vuol dire che quando invece dopo la scomparsa di Renato io feci nel dottorato fondato da me nel 2000 che si chiamava il progetto del resistente e il restauro del paesaggio tema che poi Renato ha visto che ha ripreso facemmo una tesi di dottorato uno studente su Renato Nicolini e purtroppo il dottorando trovò moltissime difficoltà a recuperare i materiali da cui sono state tratte presumo questi brani della ricerca tant'è vero che come dire programmaticamente viene dichiarato che alcune parti sono carenti quindi se Ottavio le ha recuperate penso che sia un lavoro come dire emerito e spero che la facoltà stia costruendo un archivio dei materiali di queste ricerche perché sennò va tutto perso ecco quindi mi fa molto piacere ecco non pensavo che ci fosse questa documentazione così eserriente sulle ricerche fatte da Renato per quanto riguarda il laboratorio teatrale con le quali Ottavio Amaro ha concluso il suo escursus sulla presenza di Renato Nicolini a Reggio Calabria noi abbiamo invitato Raimondo Guarini a parlare Guarino scusi di Renato Nicolini nel teatro in quanto la sua esperienza non si è esaurita come dire solo nel laboratorio teatrale e nella come dire sua esplicitazione in funzione didattica Renato ha scritto parecchie parecchie alcune opere teatrali che sono state anche rappresentate e anche avendo diretto in alcuni anni istituzionalmente alcuni organi dal festival di Spoleto al teatro stabile dell'Agui eccetera ha svolto una come dire funzione di promozione del teatro allora il titolo giusto sarebbe stato poi lo sarà se si è raccogliato degli atti anche alla luce delle cose indispensabili che sono emerse sia ieri che oggi sarebbe stato Renato Nicolini e i teatri del suo tempo beh mi permetto di dire che questo lo davo per scontato essendo lei uno storico del teatro quindi no no ma questo è l'avvio della mia sintesi sì sì certo è l'avvio della mia sintesi che sarà drastica perché appunto farò come come Purini come Franco Purini fisserò cinque punti per mostrare che cosa che la la visione di Nicolini sul teatro era un controcampo e la 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 sua ostinata e multiforme anche nel teatro attività è stato un contromovimento stiamo attenti a non confondere la direzione che lui ha impresso nell'ambito di una strategia complessiva anche anche alle attività di teatro che attraversavano la sua visione e il suo campo d'azione con una vocazione unanime e con un'assenza di contrasti di obiezioni penso anzi che l'interesse di rivedere la questione Renato Nicolini e i teatri e i teatri del suo tempo sta proprio nel definire alla luce di alcune chiavi alla luce di alcune chiavi questa la chiamerei discordia concorde perché si tratta di un contromovimento che raduna raccoglie delle istanze che sono realmente condivise ma che nello stesso tempo porta alla luce delle evidenti contraddizioni qui non sto parlando di successo insuccesso consenso dissenso quella è un'altra dimensione di cui io non parlerò perché assumo proprio come punto di vista i teatri con cui è stato a contatto Nicolini che sono entrati nel campo d'azione di Nicolini e il modo in cui ha lavorato Nicolini per ambientare e disambientare le culture teatrali perché appunto le voci che vorrei fissare sono ambiente spazio pubblico meraviglioso urbano effimero fondazione ambiente allora sì Renato Nicolini volle disambientare i teatri romani i teatri a Roma del suo tempo dobbiamo ricordare che quando innanzitutto una nota biografica ha ragione Franco Purini a ricordare gli ascendenti i precedenti familiari l'episodio però intervenendo nel 2008 in un convegno che si intitolava memoria delle cantine curato dalla collega della sapienza Silvia Carandini che è stato poi i cui atti sono stati pubblicati nel 12 Nicolini scrive per me il teatro era una parte della letteratura ho avuto delle suggestioni per esempio da Biuschner però poi ho visto Leon Sellena di Fersen e mi ha deluso e altri due o tre casi di questo però poi altri due esempi di questo tenore poi però dice ma ma poi nel 77 ho visto Cottimisti di Remondi e Caporossi quella è stata un'illuminazione anzi come la conversione di San Paolo allora è vero quello è vero questo questo è come la se voi leggete le memorie dei fondatori del teatro del novecento c'è sempre scritto fin lì pensavo che il teatro fosse quello poi ho visto una cosa lo spartiacque segue in un certo modo un cliché diciamo autobiografico letterario degli uomini di teatro quando spiegano il teatro per me è quello e lui dice l'illuminazione c'è stata nel 77 quando doveva andare a vedere il Proust di Basilicò sbaglia allora lo mandano nell'altra sala e vede per caso Cottimisti di Remondi e Caporossi cioè il teatro senza la parola secondo lui nel 2008 questo gli ha spostato la prospettiva vuol dire che non aveva delle prospettive prima no ma vuol dire che quello lo ha orientato lo ha rapito nel senso che ha detto qui c'è una corrente qui c'è una realtà che è molto meno generale unanime di quanto pensiamo che mi può che mi può indurre a intercettare quello che sta accadendo qui a Roma all'interno di un quadro che poi è quello di cui abbiamo discusso anche stamattina perché perché questo perché poi la singolarità è importante restituire la puntualità di quella di quella illuminazione e conversione queste sono le parole le due parole testuali illuminazione e conversione è importante cogliere la singolarità perché poi non è detto che la suggestione che gli viene ispirata dal fare di Raimondi e Caporossi che vuol dire la rappresentazione del lavoro la rappresentazione del lavoro un lavoro in tempo reale fare un muro questo era ottimisti con tutte le situazioni che si costruivano la rappresentazione del lavoro guardate bene anche questo è un classico se leggete Kopov Vaktangov alcune derivazioni stanislasche l'azione vera è il lavoro l'azione reale per essere l'azione reale è il lavoro e che quando Kopov Vaktangov Kulishov vedono Meyerhund vedono il gesto del lavoro quella è l'azione reale e questo è il risveglio che c'è la questione dell'inserimento della chiamata in causa del teatro all'interno delle strategie e delle configurazioni strategiche che questa mattina ha parlato Franco parte da quella suggestione da quella matrice e non è detto affatto che poi tutto quello che viene messo in campo corrisponda a una lineare deduzione o sviluppo da tutto questo il teatro nell'estate romana fu un contromovimento perché quello era il momento in cui le realtà convocate adesso usciamo dal teatro interstevere Ramondi e Caporossi vediamo chi viene convocato Giancarlo Nanni il B72 Pippo Di Marca le realtà che vengono convocate vengono disambientate perché in quel momento si stanno radicando quello esattamente è la fine del decennio in cui sono nate e stanno letteralmente prendendo posizione questo determina una straordinaria interessantissima diversità di atteggiamenti questo non posso che essere molto molto rapido che si due tracce una evidentissima quando Giuseppe Bartolucci scrive nel libro di cui si parlava stamattina fatto in collaborazione da Purini Nicolini e Bartolucci come intitola il suo saggio Avanguardia alla prova la chiamata in campo non era lo sviluppo di un movimento fisiologico ma era la cattura la fissazione di una fase di metamorfosi che non andava necessariamente nella direzione dell'ambiente spazio pubblico laddove noi siamo tutti d'accordo che quello cioè trasvalutare trasvalutare il senso culturale del fare teatrale dalla composizione di un oggetto a un intervento sullo spazio pubblico questo è testuale ma questa era veramente la vocazione o la tensione del momento quando sfociano quelle realtà nello spazio che viene costruito all'interno di una configurazione transmediale che è la strategia complessiva di Parco Centrale l'impatto di Nicolini sui teatri romani e dei teatri romani sull'estate romana fu estremamente problematico il contenuto dello stagio di Bartolucci lo è è tale perché dici quelli lavorano sulla violenza quegli altri sul soundscape aggressivo quegli altri sulla sfilata c'era l'idea secondo me geniale che c'è il teatro la fede che però non era più tale che era una delle cool diciamo così del teatro della cantina si ripropone però all'interno di una struttura del teatrino scientifico che è letteralmente eterogenea fu una una trasfusione estremamente problematica tra le definizioni ambientali dei teatri che c'erano in quel momento a Roma è qualcosa che naturalmente crea un analogo una risposta a cineclub massenzio cineclub circo massimo cineclub euro siamo d'accordo che dobbiamo riflettere in termini complessivi ma non è la stessa cosa l'intervento sul luogo per le culture teatrali e le loro eterogeneità significa altro dove sto qual è casa mia qual è la mia economia non è come un cineclub che sposta il programma in un territorio monumentale è un altro tipo di movimento questo faceva queste contraddizioni e e questi e queste aritmie facevano costruivano l'interesse enorme di quella di quella proposta di quelle proposte la contraddittorietà e anche le autocritiche scaturite la tensione e la contraddizione continua tra audacia e ripensamenti che sono i termini con cui con cui Renato Nicolini ne scrive raccontando raccontando di tutto questo in estate romana ma perché diversi erano i termini diversi tempi diversi gli approcci una altre evidenze di questo perché spazio pubblico potesse significare disambientare attenzione la nostra prospettiva nel 2021 è che veniamo da una stagione in cui anche a causa dell'emergenza ma quello è stato un fattore di accelerazione non voglio dilungarmi la ricerca del pubblico segue segue altri impulsi per cui oggi letteralmente realtà che possono essere in termini di dimensioni analoghe a quelle dei gruppi che agirono nel 79 a Via Sabotino devono andare nella prossimità non è più possibile neanche una sintesi una convergenza fisica nel lavoro sul campo che è l'ambiente urbano noi siamo in un momento in cui le realtà teatrali si devono spostare verso i pubblici è un altro momento storico in quel momento l'intervento di Nicolini da cui parto si chiama Le mie cantine si chiama Le mie cantine e sono stati già fatti 25 convegni che hanno parlato dell'estate romana rispetto alla polifonia delle cantine se le guardiamo dal punto di vista di Renato Nicolini c'è questa io direi questa intenzione dichiarata di lavorare su un movimento che non è affatto consono allo standard ulteriore evidenza chiudo qui l'arco del ragionamento ulteriore evidenza che quando abbiamo fatto Meraviglioso Urbano a Roma 3 c'erano interventi molto autorevoli di quelli che si come Quartucci diceva rispetto a le proposte di Nicolini un no dialogante un no dialogante la la ricostruzione della traiettoria di Leo De Berardinis è quella di qualcuno che fuoriesce lentamente ma che già evidentemente come Carmelo Bene non può stare dentro quella strategia di convergenza di convergenza come dire congiunturale episodica però nello stesso tempo ricordandoci di Via Sabotino è chiaro che poi come spettatori quello che rimane sono d'accordo è la conferenza la conferenza di Suasò di Peter Bruca ma è quello mi resta e poi in quella durata in quel deposito momentaneo e poi nelle direzioni verso Villa Borghese tutto si sta spostando in un lento e difficile accomodamento dentro una molteplicità di direzioni al cospetto del gesto autoriale al cospetto del gesto autoriale di Renato Nicolini che è qui autore di teatro rispetto a i teatri romani del suo tempo ma questo che tipo di movimento presupponeva presupponeva vado al centro e rapidamente su Meraviglioso Urbano ho citato per le contraddizioni Quartucci nel convegno era l'incontro del 2013 su Meraviglioso Urbano è chiaro che tutti constatavano la rilevanza di questo fenomeno ma constatavano anche e reclamavano non ci sono più non c'è Quartucci non c'è Scabbia che c'era non c'è altri non so il teatro Podlac che aveva attraversato però a un certo punto ha detto no ma quello non è lo spazio urbano che vi interessa ed erano erano di un'altra di un'altra matrice e lavoravano su formi di teatro di strada che rifiutavano quel tipo di schema rifiutavano quel tipo di schema pure loro hanno detto sì è chiaro che chi era responsabile dell'organizzazione hanno detto vieni ma no non ci interessava andare là ci sono dei dissensi che compongono compongono la situazione questa situazione poi rispondeva un movimento generale che è quello del meraviglioso che è presto sta affiorando una discussione meraviglioso contro effimero in queste due giornate come due visioni contrastanti ma in realtà il meraviglioso urbano è presto detto sta nel libro la definizione sta anche nel libro dell'81 l'effimero teatrale le infinite possibilità della vita a fronte della povertà dell'architettura questo significa il meraviglioso il meraviglioso significa considerare considerare la la misura di questa contraddizione considerare la misura di questa contraddizione le infinite possibilità della vita a fronte della povertà dell'architettura questo scrive Nicolini architettura e qui qui ricade la questione Aldo Rossi la scena fissa della vita poi ne discutiamo un altro giorno che cosa vuol dire il teatro per Nicolini andare oltre la sua lo dice meraviglioso è per me architetto andare oltre la mia identità di architetto ma per lui regista di cinema di teatro andare oltre il teatro e il cinema allora è l'ambiente che si crea è una molteplicità di punti di fuga di soggetti di identità che si devono spostare se no non c'è il meraviglioso se non c'è il teatrante che trascende il teatro se non c'è il cineasta che trascende la regia cinematografica se non c'è l'operatore dei media che si scontra con l'evidenza fattuale della 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 realtà data eccetera eccetera e se non c'è l'architetto che si scontra e considera la misura e la contraddizione della povertà dell'architettura non c'è il meraviglioso qui si apre il fronte della necessaria connessione della necessaria connessione il cui campo è stato individuato da Renato Nicolini nella città il teatro il teatro di Nicolini deve chiamare in causa altri teatri e creare anche il suo perché perché si muove su questa scelta di campo un'esperienza appunto seguiamo questa linea dopo questo convulso prologo su ma quali erano le direzioni in campo nell'estate romana all'interno di quelle configurazioni apparentemente geometriche qui c'è anche la questione dell'astrazione non ho tempo di seguire questa questa suggestione c'è una categoria marxiana che si chiama il concreto di pensiero Renato Nicolini non la mette in campo ma si potrebbe restare nell'ortodossia via altiusserde il concreto l'astrazione può essere un concreto di pensiero perché c'è un grande pragmatismo nell'audacia di Nicolini nell'applicare come uomo d'azione le geometrie le geometrie gli infiniti possibili gli infiniti possibili le geometrie rispetto alla povertà dell'architettura comunque questi sono tutti i termini su cui si può discutere dopo l'estate romana Renato Nicolini diventa direttore del festival di Volterra su che cosa lavora come direttore del festival di Volterra lavora sui dualismi del territorio e poi portandosi dietro la realtà che corrisponde al modo perpetuo a Roma cioè il BIT 72 che quella realtà sia diversa dalle altre con cui si è misurato questo è indiscutibile questo è indiscutibile perché è una realtà di volontaria perdita di identità che poi esplode di volontaria anche rimozione della specificità dell'identità teatrale perché Simone Carella Benedetti hanno sempre rivendicato un'appartenenza anfibia ibrida di tutte le espressioni di questo genere che è stata fecondissima per lo sviluppo che è stata fecondissima molto localizzata dentro quella sede fecondissima per lo sviluppo di tecniche specifiche di intervento sulla spettacolarità la transmedialità eccetera eccetera Barberio Corsetti Solari Vanzi sono sono nati là ma faccio un semplice appunto perché oggi sono stati chiamati in causa dei fenomeni imponenti quindi voglio dire che la specificità romana emerge nel momento in cui Nicolini dice vidi ottimisti nel 77 e questa fu l'innominazione nel 75 a Venezia c'erano stati il living Grotowski Bruc e Utopia dei Ronconi allora se io faccio lo storico del teatro devo dire guardate che intanto è successo qualche cosa sono tutte esperienze che poi lui rincontra nel nel quadro prima o poi vuole fare lo spettacolo barocco a piazza Ravano con Ronconi c'è il living nell'82 poi le rincontra dentro il suo campo di gioco dentro dentro diversi momenti dell'estate romana ma non è lui deve vedere gli attori che fanno gli operai per capire lo spostamento e capire i termini di riduzione e di potenza e di possibilità di concentrazione del fare teatro dentro una strategia dentro una strategia complessiva e poi le deve iscrivere nella città Volterra è questo lui propone questo programma che ragiona su due coppie che sono gli estanziali e i nomadi la cultura estanziale con una specie di spettacolo antologia di canti poesie della cultura popolare volterrana è un'orchestra di coracanè lui va lì a Volterra e ragiona sulla campagna volterrana e gli zingari e poi ragiona su Andrea Garandini che sta scavando nel teatro romano e Alberto Samonacca che sta facendo il piano urbanistico della nuova Volterra dopo due anni lo mandano via perché le realtà teatrali toscane non c'era niente non c'era niente c'era la fissazione di ragionare in corporevili sul campo sulla città in Volterra come teatro l'idea della città come teatro è questa visione profondamente analitica dell'incontro scontro contraddizione complementarità di culture a Roma è successo che sono emerse decine di presenze determinanti in quel momento ma sono emerse producendo e risultando da una da un intreccio di tensioni che sono molteplici contraddittorie quando pensa di poter lavorare su una tabula rasa Volterra in teatro si chiama così Volterra in teatro che è un'idea che cosa accade dopo due anni la regione dice ma scusa ma qui sta in Toscana si lavora sulla civiltà Toscana lavora sul centro sul centro in quanto centro abitato di Volterra gli scavi del teatro romano e la pianifica questo era il criterio questo era il lavoro ultimo dunque siamo arrivati a meraviglioso urbano meraviglioso le contraddizioni meraviglioso il trascendimento urbano però la scena della città poi concludiamo con quello che abbiamo visto cioè Nicolini poi ci sono degli episodi interessanti una delle prime edizioni di Roma Europa Festival nei giardini di Villa Medici lavora su una revisione delle commedie di Vittorio Alfieri tre veleni rimesta avrai l'antidoto che è un ragionamento sui sistemi di governo dall'altezza cronologica di Vittorio Alfieri e che consiste in percorsi paralleli all'interno dei giardini dei giardini di Villa Medici che direzione interessante in questo era uno spettacolo in cui le persone cioè ci stavamo ci stavano ci stavano ma qui se vai lì non vedi quel pezzo là era un disambientamento dello spettatore era uno dei tanti una delle tante proposte di come si chiama in maniera un po' logore di spettacolo itinerante però con un carico di contenuti ideologici di filosofia politica pazzesco di filosofia politica pazzesco però interessante questo è l'89 cioè il secondo anno di Volterra è evidente che però Nicolini si sta dirigendo si sta dirigendo verso quello che penso abbiamo visto nell'ultima fase cioè che cosa poi ci sono le scritture le adesso non ho tempo di parlare di tutto mi avvio verso la conclusione cioè quello che abbiamo visto è Nicolini che come drammaturgo della città Nicolini che crea un campo di trascendimento di superamento e quindi di meraviglioso giovani architetti che fanno un laboratorio di teatro con poi con Nicolini e con un'attrice che ho visto all'opera quando ha fatto il laboratorio su uno dei pezzi che avete visto la fondazione della città a Roma 3 questo e anche questo è accaduto nel 13 quando c'è stato Franco Purini era presente in alcune circostanze di quel progetto quando c'è stato meraviglioso urbano in cui qualche pezzo abbiamo cominciato a metterlo insieme che cos'è interessante della fondazione della città questa drammaturgia associativa in forma di rivista nel senso di spettacolo di varietà che mette insieme delle situazioni cruente critiche la fondazione di Roma il terremoto di Reggio Calabria di cui si parlava le fondazioni di Alessandro Tommaso Campanella proprio sotto la specie sotto la specie dominante del tempo della fondazione parlare della città rappresentando il rifarsi della città rappresentando il rifarsi della città quello che mi ha sorpreso veramente mi ha folgorato anche ognuno c'è le sue piccole illuminazioni è quello che ha ricordato l'intervento precedente leggendo Francesco Spinelli che lui reagisce a questo con un commento a una delle fasi del lavoro posto che la questione della fondazione diventa determinante per capire in che senso in che senso poi ho saltato un pezzo che è l'effimero l'effimero anche questo è stato detto dieci minuti fa è vedere diversi tempi storici contemporaneamente non vuol dire una cosa che scompare vuol dire che ogni strato del tempo storico rispetto a quell'altro scompare si eglissa riappare ciò che è effimero è l'intersezione momentanea dei tempi del mondo questo per capire i tempi del teatro è fondamentale per capire i tempi del teatro è fondamentale che nel teatro non c'è il nuovo il vecchio l'atavico il postmoderno il contemporaneo la memoria del teatro sta dentro i corpi la memoria è nella grande problematica di cui appunto da ieri o da domani si parlerà di Nicolini che è quella sociologicamente evoluta il corpo è la pietra il corpo è la città i corpi nella città tutto quello che viene messo in campo dal linguaggio della performance ho cercato di evitare questo perché sarà appunto il metalinguaggio inevitabile quando si parlerà storicamente dell'esperienza di Nicolini protagonista della cultura romana la svolta performativa della cultura urbana è giusta di fatto la cultura urbana alla luce di una svolta performativa che consisteva in quelle combinatorie che attivava e tra queste combinatorie c'erano quelle del tempo quelle del tempo ma che cosa è effimero che cosa rimane che cosa è che persiste quando lui lavorava su archeologia e pianificazione ovviamente il caso di Voltaire lavorava su questo come quello che sto spiegando adesso l'archeologia industriale in Calabria l'archeologia dismessa in Calabria era sempre polarizzato era sempre polarizzato da questo reshaping scappata una parola ma questa rimodulazione del tempo il senso del teatro è questo chi si occupa di un altro sa che ci deve essere non attori di una parte attori di una storia attori del tempo e lui era questo come architetto come storico come uomo di teatro e quello che mi ha affolgorato è la frase che ha citato Spinelli quando dice sì com'era bella com'è bella la missione di Willemmeister rispetto alla versione definitiva vuol dire che Nicolini nel suo interpretare il rapporto tra il borghese intellettuale e l'uomo di teatro è stato un Willemmeister al contrario cioè prima il contrario della successione delle versioni del romanzo che è l'emblema del rapporto del borghese col teatro da Goethe fino a oggi non è stato il borghese che si è immerso e poi lentamente si è allontanato in un senso della storia in un senso della società dal teatro è stato qualcuno che possedendo un senso della comunità e poi un senso della memoria è andato verso il primo romanzo di Goethe la missione teatrale di Willemmeister grazie Guarino ha dato sicuramente delle come? niente grazie ha dato sicuramente elementi di riflessione a tutti noi architetti sul come dire interconnessione che c'è fra come dire l'attività di teatro di Renato e poi la sua interpretazione dell'architettura devo dire che la contraddizione che Guarino ha messo in evidenza fra le infinite possibilità della vita a fronte della povertà dell'architettura a mio avviso però questo se ne potrà discutere in un altro momento non è tanto non tanto rispetto alla povertà dell'architettura quanto alla limitatezza dell'architettura l'architettura come dire ha un suo statuto e ha una come dire sua necessità e ha come dire delle sue regole molto come dire delimitate comunque e quindi però ho confesso che nel suo intervento ha inserito alcuni alcuni elementi che in un precedente intervento che avevo assistito fatto da lei mi erano sfuggiti e quindi la ringrazio invito a venire qui Daniele Vitale Alberto Abruzzese e a Daniele Vitale è stato chiesto di una riflessione sulla diversità fra la cultura architettonica romana e l'architettura architettonica milanese emersa già fin da stamattina quando abbiamo parlato un po' al controspazio redazione milanese Ezio Bonfanti e controspazio relazione romana caporedattore Renato Nicolini diversità che venne fuori abbastanza in maniera molto evidente con la differenza fra i numeri ma che poi si è sempre di più come dire manifestata fino ad oggi in cui effettivamente oggi c'è un abisso fra ciò che si come dire che pensano gli architetti che si sono formati a Roma e che operano a Roma e gli architetti invece che vivono anche questa stagione globalizzante a Milano città più europea e che hanno come dire mi permetto di dire con un po' di cattiveria che non dovrei fare il vizio un po' di colonizzare però questi sono già commenti che forse non spettano al coordinatore in questo momento Daniele Vitale grazie per essere venuto a te intervento grazie a voi dell'invito e devo dire che ho un compito più difficile di alcuni che mi hanno preceduto e che parlavano di Napoli di Reggio Calabria perché la differenza con Milano è più difficile da comprendere e diceva Laura Termes più radicale anche e non è sufficiente richiamare la vicenda di controspazio che in fondo nasce a Milano nel periodo milanese di portoghesi e poi continua con una appartenenza molto più romana ecco io vorrei cominciare da Roma per riuscire poi a costruire il paragone il sistema di rapporti con Milano nelle sue stati Nicolini accende molte luci che sono quella della musica della poesia del teatro e del cinema e poi tante altre ancora e però io direi che non sono degli spettacoli perché gli spettacoli hanno un carattere predisposto sono piuttosto degli eventi perché gli eventi hanno sempre un elemento insieme di attesa e di sorpresa sono più indeterminati e la folla romana vive questi molto più come degli accadimenti generali che non come degli spettacoli e poi ci sono i luoghi che sono dei luoghi di suggestione intensa e c'è il confronto con la natura in qualche caso come a Castelporziano e altrimenti con la città con la complessità della città romana e poi c'è la folla non si tratta di un pubblico di nuovo il pubblico si sa immaginare come sia costituito la folla no è composita ed è indistinta da tanti punti di vista è anche imprevista la folla che partecipa alle estati di Nicolini è mista perché veda la presenza del popolo del popolino ma anche dei borghesi degli artisti degli intellettuali e questo conta e però io direi che l'aspetto più affascinante più interessante delle stati che Nicolini costruisce è la riappropriazione degli spazi urbani cioè quella folla si rimpadronisce della città o la scopre piuttosto scopre i fori scopre i monumenti scopre la spiaggia e questo in realtà è un fenomeno antico non è un fenomeno che risale all'estate di Nicolini sono tanti gli episodi in cui una popolazione riscopre la propria città e la rivede secondo un'angolazione differente nelle state di Nicolini prevale anche l'aspetto ludico io direi poi ci sono le riappropriazioni che nascono da un momento di eversione di eversione politica a Parigi la folla riscopre la città occupando la bastiglia e poi ricostruede un rapporto anomalo con le dimore reali a Milano nel 48 gli operai del circondario milanese quello dei corpi santi si chiamava così quel comune che avvolgeva la città fortificata entrano nella città la città dell'aristocrazia e costruiscono lì le loro barricate e poi c'è la riappropriazione della festa penso per esempio a Siviglia alle due grandi manifestazioni annuali che la caratterizzano la feria e la settimana santa un aspetto religioso e insieme una festa gigantesca in cui la folla invade la città ed ogni volta la invade riscoprendone dei luoghi diversi ecco però quella riscoperta da parte della folla romana ha dei suoi caratteri particolari spesso è una specie di luogo comune si è contrapposta l'estate di Renato Nicolini agli anni di piombo io credo che non fosse un'alternativa sono figlia pari merito del 68 il 68 è complesso e genera una cosa e genera l'altra e il 68 non è una rivoluzione politica è una rivoluzione dei costumi dal punto di vista politico io vorrei ricordare quello che accade nel 68 Nixon vince le elezioni negli Stati Uniti nel 69 c'è il golpe di Pinochet in Cile nel 68 De Gaulle vince le elezioni parlamentari quindi non è una rivoluzione politica è una rivoluzione dei modi di vivere di vestire e l'estate di Nicolini appartiene a quel clima e a quella vicenda e quindi questo ha io credo una sua importanza e però vengo di più al raffronto con Milano le stati nicoliniane a Milano non sarebbero state possibili per tantissime ragioni e intanto per una ragione architettonica per la diversità delle due città e per la diversità del loro uso dello spazio pubblico Roma è una città che mostra i tempi della sua costruzione della sua storia che mostra le sue stratificazioni Milano è una città antica pre-romana e romana che però ha seppellito il proprio passato si è costruita secondo un volto uniforme e coprendo le differenze grazie ai suoi intonaci è una città di altezza uniforme non ha i colli romani è una città in pianura dove gli edifici hanno più o meno tutti la stessa altezza storicamente e in mezzo c'è questa mole gigantesca del Duomo che è il solo fatto veramente teatrale della città questa mole gigantesca di marmo rosa e ricca di guglie e di migliaia di statue e a Roma c'è un uso una cultura dello spazio esterno dello spazio pubblico risale molto indietro nel tempo addirittura ai Saturnalia e poi ai Carnevali e poi all'iperbole barocca e poi via via continua nel tempo questo uso degli spazi esterni a Milano anticamente c'era l'uso dei sagrati delle chiese e però nel settecento per esempio dal settecento in poi la vita cittadina la cultura cittadina si costruisce su una dualità che è quella tra il teatro e il salotto è lì che si svolge la vita culturale della città e De Sanctis per esempio parla del salotto come di una cultura della conversazione e ha ragione perché ha insieme la fragilità della conversazione ma anche la sua capacità di condensarsi per esempio in laboratorio politico o in letteratura e quindi questa è una differenza importante e dice che l'effimero milanese è molto diverso dall'effimero romano effimero è una brutta parola è una parola negativa significa instabile transeunte c'è un colloquio molto bello di Franco Fortini in cui parla male dell'effimero e poi però a un certo punto dice forse mi sono sbagliato perché capisce che l'effimero è legato alla storia alle situazioni alle condizioni del vivere e quindi l'effimero ha per sua natura un aspetto ambiguo e ce l'ha anche nell'estate di Renato io credo l'effimero ha per esempio questa capacità di prefigurare l'architettura aspira alla durata e l'architettura effimera che per esempio si manifesta attraverso l'allestimento invece anticipa l'architettura la immagina è una sorta di visione lirica del costruire e l'allestimento conta nell'estate romana conta anche se non sembra conta anche quando gli avvenimenti sembrano nudi perché anche uno schermo è un allestimento e poi ci sono le forme più complesse dell'allestimento il teatrino che Laura Termes e Franco Purini costruiscono ma anche i cubi bianchi di Costantino Dardi lungo le mura Aureliane e però io direi che c'è un'opposizione anche nell'idea dell'allestimento tra Roma e Milano è difficile dare una valutazione ora in poche parole ma l'allestimento milanese è perlomeno quello che viene da Edoardo Persico e che continua con Albini con Gardella e con i fratelli Castiglioni produce una sorta di sublimazione dello spazio per esempio attraverso il reticolo che è il reticolo di tubi innocenti all'inizio e poi attraverso la sua progressiva schermatura e invece l'allestimento romano forse nasce da una sorta di estetizzazione della vita degli eventi e anche dell'architettura fatto sta che l'allestimento conta nella costruzione degli eventi delle estati romane e però se c'è antagonismo e differenza rispetto all'idea dell'allestimento c'è un antagonismo molto più antico tra le due città antico e insieme irrisolto drastico nasce addirittura con le due capitali rivali dell'impero nasce con la costituzione delle due chiese quella di rito ambrosiano e l'altra ed è un'idea diversa del potere insieme dell'esercizio della religione continua ancora per esempio con l'illuminismo a Milano centro con Napoli della cultura illuminista di una certa idea del progresso e del diritto civile e la Roma papalina c'è un libro di uno storico forse non così bravo ma che ha un titolo molto bello le città rivali dal settecento in poi le due città rivali naturalmente sono Roma e Milano ed è un anterronismo che continua che ha una sua versione politica recente moderna a Roma esistono le giunte di sinistra che sono le giunte di Argandi Petroselli di di vetere e più o meno quasi contemporaneamente ci sono le giunte di sinistra milanesi quelle di Tognoli di Agnasi di Pilliteri Cognato di Craxi le prime le prime giunte sono attrazioni comuniste fondate su una certa visione dove Nicolini io credo va ricordato è minoritario prima si raccontava come Ergan parlando della cultura romana si dimentichi di Nicolini che pure ne era stato protagonista e invece le giunte milanesi che hanno anche il partito comunista al loro interno sono attrazione socialista Milano è la patria del craxismo è la città di Craxi e del potere craxiano e io credo che questo non va dimenticato nel 1976 quando Nicolini diventa assessore Berlusconi sta terminando Milano 2 cioè il quartiere le residenze con cui la sua ricchezza si moltiplica esponenzialmente e inizia il suo potere la sua transizione da Craxi a Berlusconi ecco perché le stati nicoliniane non sarebbero possibili e non sono state possibili a Milano per una situazione non solo politica ma più generale storicamente diversa Milano è la città non del popolo del popolino romano ma la città della classe operaia che ha la sua periferia le sue residenze i suoi luoghi di insediamento ha naturalmente le sue fabbriche ma anche le sue organizzazioni politiche e poi i suoi conflitti interni radicali tra per esempio il partito il partito comunista e le altre organizzazioni extraparlamentarie legate a un movimento che coinvolge le fabbriche e gli operai allora questa è una differenza io credo decisiva perché le stati di Renato sono legate a una partecipazione di popolo non di classe operaia e in realtà le grandi manifestazioni milanesi quelle che vedono una partecipazione di massa e che qui possiamo arbitrariamente ricordare nascono da un tessuto produttivo la fiera è un luogo di partecipazione di massa dalla fine dell'ottocento è una massa anche qui indistinta a un pubblico di curiosi o di visitatori visitatori forse è il termine giusto e poi di persone legate al mondo produttivo alle aziende ma accade così anche per la triennale è un ente che ha una sua vita specialistica che ha delle esposizioni spesso di grande qualità che ha un momento di crisi profonda negli anni 60 70 e però vede una partecipazione cittadina molto allargata e poi addirittura c'è il salone del mobile che ha una prima fase e una degenerazione recente insomma degli eventi di partecipazione di massa molto diversi rispetto a quelli romani io credo che Renato sia stato molto bravo e sia stato molto coraggioso anche e che gli vadano riconosciuti tutti i meriti che ha avuto e però credo anche che abbia perduto alla fine che abbia avuto il suo momento di fortuna o di gloria e che alla fine sia stato sconfitto forse si è rifugiato ad un certo punto nel teatro forse ha un suo momento particolare di debolezza quando costruisce la propria polemica la costruisce a livello politico non la costruisce più a livello dell'architettura forse dimentica o definito esterno ai problemi dell'architettura che per esempio a Milano continuano ad avere una loro versione una loro elaborazione prima si parlava della controscuola di Nicolini credo che il termine controscuola fosse nel 68 un termine diffuso ma i due 68 quello romano e quello milanese sono diversi anche all'interno dell'università perché la sperimentazione o la controscuola milanese diventa ad un certo punto scuola e credo che questo non accada a Milano diventano cioè una facoltà basata sulla ricerca sul dibattito culturale che viene da lì e insieme si istituzionalizza con quello di negativo che questo comporta e anche con i suoi aspetti positivi perché quella scuola avrà una vita lunga e però io ripeto credo che Renato Nicolini perda forse perde di meno di Carlo Aimonino di Carlo Aimonino non ho parlato e però andrebbe discussa la coppia Nicolini Aimonino il loro rapporto e forse il loro rapporto nasce da una interpretazione della teatralità della città romana anche Aimonino da un'interpretazione fortemente teatrale nei suoi progetti e nei progetti della sua cerchia e però nessuno dei progetti di Aimonino alla fine si realizzerà dei progetti elaborati come assessore al centro storico e quindi io credo che vada riconosciuto che entrambe sono state delle sconfitte e però a Nicolini va riconosciuto un grande merito che è quello del suo essere costantemente spettinato è una spettinatura non solo dei capelli è un carattere centrico dal punto di vista culturale è una sua spregiudicatezza anche nella polemica politica quando avrà perduto la sua battaglia e allora quella rimane una stagione per un periodo di grande successo e alla fine non non trova una sua continuità culturale effettiva per esempio nelle istituzioni culturali forse perché non era storicamente possibile e però io credo che questo doppio aspetto vada ripensato il fatto che alla fine Nicolini politicamente perde e il fatto che ad un certo punto abbia dimenticato l'architettura io credo che ne sia diventato per certi versi estraneo che per esempio abbia trovato la sua strada nel teatro e però credo che a Nicolini dobbiamo essere altamente riconoscenti per i suoi meriti per quello che ha cambiato nella cultura e nella costruzione popolare di una cultura e questo io credo che non passa quella stagione particolare e che questo a Renato vada fino in fondo riconosciuto grazie Daniele naturalmente ha ribadito alcune situazioni che sono emerse nel corso di questo dibattito Renato Nicolini forse cioè sicuramente ha perso politicamente perché poi come dire la sua storia politica è finita quando ha perso le elezioni sostanzialmente quando si è candidato a sindaco però come dire l'obiettivo di questo incontro voleva essere quello di come dire tirare fuori Renato da una gabbia in cui era stato circoscritto dal successo dell'estate romana per ritrovarne invece indicazioni del suo rapporto o come dire l'interpretazione dell'architettura e della città ci sono stati vari contributi sicuramente si sono mossi in varie direzioni e adesso do ad Alberto Abruzzese il compito in qualche modo di chiudere questo intervento perché quando Alberto Abruzzese fu anche in un certo senso consulente nel momento in cui si stava impostando l'estate romana del 79 ma non per questo perché quando gli ho telefonato per chiedergli se era disponibile a fare un intervento su Renato Nicolini e il mio titolo in qualche modo era orientato verso un viaggio avventuroso fra molti linguaggi ancora non gli avevo detto lui senza come dire prima che io gli ho dicessi mi ha detto subito sì il mio titolo è uno nessuno eccetto mila e quindi mi sembra che sia come dire una buona un tema sul quale lui darà il suo contributo e che poi ben corrisponde a come ho cercato di organizzare questo incontro sì grazie non so come mi è venuto mi è venuto subito il titolo uno non ho nemmeno parlato prima ancora che finisse di parlare mi è venuto ma perché c'è in mezzo il teatro c'è in mezzo gli sdoppiamenti di Renato tra l'identità politica che c'era perché vi racconto un piccolo episodio io giovanissimo quando lui era già un piccolo dirigente della federazione di De Frentani io venivo processato nel piano di sotto e sopra c'era Renato insomma non camminava con gli altri dirigenti io venivo processato perché avevo partecipato alla stesura di un quotidiano non quotidiano no un numero speciale classe partito si chiamava e quindi venivo considerato un eretico e quindi da espellere non fui espulso ma insomma semplicemente perché menti quella era la grande lezione che si riceveva mentire e io ho mentito e non fui espulso allora no questo convegno io lo sapevo che sarei arrivato a questo convegno schiacciato diciamo dalla quantità degli interventi e quindi senza capire bene cosa potesse essere il mio il mio contributo vorrei farvi cioè come dire vorrei ricambiare il regalo di essere stato invitato con il regalo di congedarvi il più rapidamente possibile da questo interminabile diciamo convegno cos'è che posso diciamo allora io nel convegno ho trovato degli spunti molto interessanti anche delle significative dichiarazioni che magari io avrei sviluppato ma insomma per esempio Vanna Fraticelli quando ha usato il termine lui ha detto che lui nelle sue letture insomma era Renato era ingordo è vero lui era ingordo ingordo corrisponde anche a una attenzione appunto che Renato ha sempre avuto al proprio corpo e al corpo in genere e quindi anche all'attore il teatro lì c'è di mezzo il teatro con la sua ingordigia lui leggeva di tutto dai fumetti diciamo porno sino onnivoro onnivoro vabbè d'accordo è un'accezione io ci ho aggiunto ingordo però era ingordo io me lo ricordo Renato e aveva questa venatura in cui questo desiderio del leggere era qualcosa di assai più carnale che intellettuale come del resto tutta la sua vita quindi non ho falsato ecco il senso della parola quindi questa era una notazione diciamo interessante e Purini ne ha diciamo come dire elencati vari nemmeno più me ne ricordo però forse quello che mi ha colpito di più quanto lui fosse bravo a ispirare a creare ispirazione e quanto a quello non facesse seguito poi davvero il concreto di quello che lui aveva fatto con una concretezza che riguardava la messa in scena che riguardava l'immaginario che riguardava le suggestioni ma che poi come dire stava lì si bruciava esattamente là dove si era si era acceso ma sono tantissimi devo sinceramente dire che mi sarebbe tanto piaciuto e forse darei un esito migliore di me stesso se avessi potuto sentire soltanto all'inizio la relazione di Guarino Guarino a me pare che abbia accolto magnificamente quello che oggi si può dire per tentare di capire qualcosa di tutta l'esperienza di quegli anni un'esperienza di quegli anni che come dire durante il convegno e molto spesso in tutte le le analisi che si fanno di quegli anni dell'estate romana eccetera si sfibra diciamo in vario modo si perde diciamo in tanti rigoli e che invece a mio modo di vedere ecco cosa mi sarei aspettato io da un convegno oggi su Renato Nicolini non tanto sì certo anche ripeto è stato interessante i testimoni gli architetti l'architettura le facoltà gli eventi eccetera ma mi sarei aspettato quello di tentare proprio ad andare a fondo di che significato potesse avere in quel momento l'enorme successo di quella che in diversi modi si chiama l'estate romana l'effimero o altro e poi la fine di quella fase e anche l'oblio perché poi tutta questa roba ce ne ricordiamo noi non ne parliamo noi insomma è diventata una parola e a me pare che quell'evento quella quella diciamo quella capacità di Renato di sollevare diciamo la città il territorio è stato detto è stato attaccato da molti è stato attaccato da pochi qualcuno ha avuto trombadori lo attaccava ma poi invece no non è il grandissimo successo di Renato fu si dice con una brutta parola peraltro fu un successo di popolo fu veramente un successo di popolo e la cultura di sinistra a parte le culture istituzionali che non avevano nemmeno il coraggio di parlare o comunque non erano ad usi o una cosa di questo genere ma le culture di sinistra che avevano sempre avuto la tentazione e il desiderio di intervenire appunto sul popolo si scandalizzarono molto e lo attaccarono selvaggiamente eh selvaggiamente ecco diciamo la mia contrariamente a quello che ha detto lei stessa io forse ho visto due o tre volte Renato Nicolini in privato oltre a quella diciamo in cui fui processato un'altra volta con me Franco quindi me la ricordo ma bellissime volte insomma in veste un po' ufficiale no perché noi non abbiamo avuto molti di quelli che erano cresciuti con me nella cultura dell'immaginario collettivo eccetera dei media delle trasformazioni dei media eccetera sono stati fondamentali lui ha avuto una caratteristica per esempio rara nei politici di sapersi servire molto bene delle persone professionalmente capaci questa è stata una dote straordinaria e lui di volta in volta raccogliendone anche inevitabilmente i successi però produceva eventi in cui aveva messo al lavoro straordinarie persone nessuno di questi io vedo qui allora detto questo fu molto attaccato allora ecco cos'è che io penso ripeto proprio facendo tesoro di un discorso che sembra essere distante da quello che sto dicendo di Guarino però cosa mi porrei oggi la domanda che mi farei oggi bene che cosa che cosa ha significato l'estate romana le polemiche sull'effimero no gli scontri di cui ecco siamo sono stato molto più io come dire un attore perché Renato che era coperto dal suo ruolo di assessore poteva in qualche modo dribblare gli attacchi della non so per esempio dei movimenti cinematografici delle associazioni cinematografiche questi attacchi io li ho dovuti in qualche modo sostenere in qualche modo per la prima volta no perché era 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 la prima volta che si rivelava all'interno di una cultura diciamo democratica no eccetera una reazione così violenta da parte della sinistra veramente violenta e quindi in quegli anni io sostenivo ed altri ma non moltissimi abbiamo sostenuto il dibattito appunto contro quelli che erano contro l'effimero ecco io mi domando rispetto a quel momento oggi a che punto siamo io credo che si sia via via ripetuta esattamente sempre la stessa conflittualità tra le culture tradizionali e le innovazioni innovazioni tecnologiche diciamo allora Massenzio dico Massenzio per spiegare quanto ci potesse essere dentro e avesse senso il cinema non il teatro che è già una faccenda diversa diciamo che Renato riesce a intuire attraverso l'esperienza che aveva fatto su Massenzio nell'esperienza di Massenzio si coglie un momento cruciale del cinema trasformando il cinema d'autore in cinema come pratica dell'immaginario to cure e quindi in qualche maniera Renato sollevò lo scontro e la reazione di quello che in quel momento si avviava a essere la grande polemica con la televisione Massenzio era una grande rappresentazione che equivaleva a quello che era la televisione mescolare tutto dal più triviale al più eccelso oggi noi via via nel tempo abbiamo assistito a diversi momenti equivalenti a quello allora fu lo scontro appunto sul cinema di Massenzio e quindi da quello si arrivò allo scontro sulla televisione dove io e altri avevamo subivamo critica altrettanto selvagge diciamo dalla sinistra per come interpretavamo le trasformazioni del comunicare attraverso la televisione e oggi l'esplodere della letteratura sulle nuove tecnologie l'intelligenza artificiale eccetera è esattamente la stessa cosa ecco io diciamo la prossima volta che si farà un incontro su un segmento diciamo almeno della figura di Renato e penso che si potrebbe ragionare su questo e c'è stato un grande momento in cui le culture tradizionali tutte le culture tradizionali si sono scontrate con i fenomeni innovativi e non ne accogliemmo interamente la lezione abbiamo capito molto tempo dopo questo e questa però non è stata mai poi motivo di una trasformazione delle elite culturali in Italia o nel mondo le elite culturali sono ancora al passo indietro rispetto all'innovazione tecnologica bene credo di non avere altro da dire oppure potrei avere molte altre cose da dire ma questo ecco a me sembra che possa essere un modo per per onorare Renato e chi ha lavorato con lui cosa importantissima appunto chi molto spesso lo ha ispirato vorrei appunto ma non lo dico più tra quello che accade con Renato uomo del teatro e quello che accade con Renato come come dire messa in scena urbana c'è una certa differenza che fa parte appunto del carattere come era onnivoro quello è il carattere di Renato per cui lui poteva leggere appunto Iacula o qualsiasi dei fumetti porno di allora e contemporaneamente come si è visto da recitazioni magnifiche proposte essere un uomo di straordinaria di straordinaria cultura va bene non ho altro da dire sono stato abbastanza breve non ti abbiamo chiesto no 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 una cosa sono i desideri bene l'obiettivo della giornata di lavoro era quello di capire che cosa di Renato si poteva ancora come dire riportare che cosa Renato poteva che indicazioni si poteva prendere dalla esperienza di Renato alla luce anche del fatto che sembrerebbe che un'amministrazione come ci ha detto Godor sta facendo un'estate romana che si vuole ispirare a quella lì eccetera quindi chissà se si è ispirata semplicemente riportando il nome o si ispirerà semplicemente seguiranno a utilizzare il nome dell'estate romana oppure si attiverà noi non eravamo spamentati dal terrorismo in quegli anni avevamo però una vita ordinaria che era lontanissima dalla miccia che fu accesa con l'estate romana e l'estate romana poteva funzionare in quel modo perché in qualche modo non c'era quel tappeto infinito di media reti suggestive multidimità eccetera nel fare scaricare certo in un territorio immateriale è totalmente diverso quindi pensate che si possa riprodurre quella faccenda diciamo io non credo che si possa riprodurre quella faccenda però credo che l'esperienza di Renato e il suo portato di intellettuale in tanti campi vada riletta e vada collocata nella giusta prospettiva mi auguro che questo i contributi di tutti quanti molto puntuali molto attenti ci aiutino a fare questo nel momento in cui andremo a pubblicare gli atti spero di riuscire a pubblicarli grazie a tutti coloro che sono intervenuti e grazie anche a no dobbiamo chiudere perché l'Accademia deve chiudere e grazie anche all'Accademia di San Luca che ci ha permesso di fare questa bella giornata c'è il principio grazie a tutti